Benvenuti a tutti, grazie di essere qui, ciò non è anche accusato il fatto che è una domenica pomeriggio, ovviamente è bel tempo, quindi stare a venire qua a parlare due ore di una cosa che sembra ormai così lontana come il Covid, non è da tutti, ringrazio innanzitutto i tre nostri ospiti di oggi, ognuno di anche la nostra associazione sotto sopra, insomma non hanno bisogno di presentazioni però è rito farlo, quindi lo farò brevemente, abbiamo con noi Sara Gandini, che è un epidemiologa di Milano, di biostatistica e di nota anche per le campagne che ha fatto durante il Covid per l'apertura delle scuole, in particolare, questo rappresenterà un po' il volto scientifico di quello che andremo a dire oggi, le scienze dure, le scienze dure. E' stata recentemente attrice di un contributo per questo libro qua, è Ronda lunga, della Ericsson, che appunto riguarda, in particolare, appunto, la questione degli adolescenti e della questione di istruzione. Poi avremo Thomas Fazzi, invece giornalista, traduttore, documentarista, molto attivo, diciamo, successo in Italia su tematiche economiche, sia anche all'estero, infatti il libro di cui ci parlerà oggi, dei comic consensus, è stato per ora pubblicato solo in lingua inglese, così come molti suoi contributi su testate inglesi e internazionali in genere. E poi Andrea Miconi, anche lui scienziato, sociale, sociologo e professore di Milano, e siamo autori anche lui, giustamente, di due libri, che sono Emergenza di Stato, che è quello più recente, e epidemia e controllo sociale. Chiaramente, come la presentazione, avrà ognuno un taglio un po' diverso, un punto di vista, rispetto a quello che ci diremo oggi sulla pandemia. Pandemia o sindemia, su questo, ma io ci vedo meglio, Sara, dopo. E prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, solo un breve cappello introduttivo sul perché come associazione abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa. Di Covid si parla ormai da sei mesi per nulla, di fatto, e è una parte che è stato quasi rimosso generale nella nostra società, e nella nostra unità in particolare. In realtà la nostra sensazione come associazione è che non si sia parlato per nulla neanche nei tre anni e nei tre anni precedenti, c'è stato prima un approccio molto da propaganda geopolitica su questa cosa strana, oscura che terrorizzava la Cina, poi abbiamo avuto il Milano non si ferma e rendiamo tutto ancora prima di chiudere, e poi in realtà si è visto come c'era un gioco continuo, poi di fatto, tra quelli che erano i dati più scientifici e più reali, e quello che era un po' la... diciamo, è una ripotenza della politica. che non sapeva effettivamente dove andare a pescare, nel momento dove mancavano le mascherine, mancavano anche materiali più di base, insomma, di prevenzione, anche negli ospedali. Ho ancora memoria, ad esempio, di una mia amica che era infermiera al pronto soccorso a Bologna, che le prime settimane doveva fare un'autotassazione, che aveva una richiesta online per recuperare, praticamente, per essere di comprare su internet canici, piuttosto che appunto mascherine per la gente che operava in prima lì. E poi però la cosa è stata usata politicamente per fare molto altro. Questo molto altro cercheremo un po' di scandagliarlo oggi, perché appunto non è importante non uscire anche dalla contrapposizione, dall'idea del compottismo e dell'altra parte, insomma, del voler tacciare qualsiasi voce critica che c'è stata in questi anni. Quindi, come prima cosa, passo la parola subito a Thomas, che appunto ci parlerà un po' di cosa è successo, cercando di ricostruire un po' i primi passaggi dello sviluppo della pandemia. Grazie Gian Domenico per l'introduzione e per l'organizzazione di questo evento, che mi fa veramente piacere, perché finalmente è la prima volta che io e Sara ci vediamo dal vivo, dopo aver però condiviso tante battaglie, ed esserci, diciamo, sostenuti moralmente, intellettualmente, nel corso di questi anni veramente difficili, quindi è veramente un grandissimo piacere, e ovviamente anche con Andrea, con cui invece ci siamo già incontrati in passato, di cui ho apprezzato tantissimo i libri che ha scritto. Ci tengo a sottolineare che il primo libro di Andrea è uscito quando? Cos'era? L'estate del 2020, quindi diciamo, tante cose che poi altri hanno detto successivamente, Andrea le ha dette ancora quando le dicevano veramente in pochissimi, quindi di questo gli va dato atto. Sì, appunto, quello che farò adesso è fare una breve ricostruzione cronologica di quello che è avvenuto, direi, proprio nelle primissime settimane, nei primissimi mesi, perché è fondamentale, secondo me, avere uno sguardo d'insieme su quello che è avvenuto, perché ovviamente quando ci stavamo dentro non riuscivamo bene a renderci conto, eravamo, come dire, schiacciati su un presente che non era neanche un presente alla giornata, ma un presente quasi all'ora, al minuto, al secondo. Invece adesso, col senno di poi, possiamo un attimo rimettere insieme i pezzi. Infatti quasi tutta la prima parte del libro è quasi esclusivamente una ricostruzione cronologica di quello che è avvenuto, con, diciamo, opinioni da parte mia e del mio coautore, Toby Green, minime, perché effettivamente ci siamo resi conto che solo la messa in fila dei fatti già diceva tanto, insomma, nel senso che i fatti quasi parlano da sé, e questo l'abbiamo fatto perché ci siamo resi conto che una ricostruzione così meticolosa ancora non era stata fatta da nessuno e ci sembrava importante farla, perché appunto semplicemente mettendo insieme i pezzi, secondo me si capiscono tante cose. Quindi, partirei dalla timeline ufficiale della pandemia, c'è una data che è il 31 dicembre del 2019, quando l'autorità sanitaria di V1 fa un piccolo rapporto sul proprio sito internet annunciando un focolaio di quello che sembra essere una forma di polmonite, una cosa, diciamo, similpolmonite, che viene ripreso poi dall'ufficio locale dell'OMS. Quindi, il 31 dicembre abbiamo, diciamo, la prima conferma scritta ufficiale di questo focolaio a V1. C'è da dire subito che questo aspetto della timeline però è piuttosto contestato. Esistono diverse analisi, diversi studi che indicano che molto probabilmente il virus già circolava a V1 almeno fin dall'estate del 2019, così come ci sono altri studi che sembrerebbero indicare è anche che il virus stava circolando anche altrove, intorno, diciamo, alla metà del 2019, tra cui anche in Lombardia, sulla base dell'analisi di alcuni campioni clinici risalenti al settembre del 2019. Ma altri studi di questo tipo hanno rilevato il virus anche altrove, precedentemente alla fine del 2019. Quindi diciamo che è abbastanza assodato che quasi sicuramente il virus stava già circolando prima di quando le autorità cinesi ne hanno dato l'annuncio e molto probabilmente le stesse autorità cinesi erano a conoscenza della circolazione di questo virus prima di quando ne hanno dato l'annuncio ufficiale. Comunque, tornando alla timeline ufficiale, poi nei primi giorni di gennaio, sette giorni, solo sette giorni, dopo aver ufficialmente individuato questo focolaio, le autorità cinesi annunciano di aver sequenziato questo virus e di aver individuato un nuovo coronavirus, che appunto poi verrà chiamato SARS-CoV-2, fatto che di per sé, diciamo, suscita delle perplessità, perché insomma il fatto che siamo riusciti a sequenziare il virus in così poco tempo ha suscitato dei dubbi, così come il fatto che abbiamo poi sviluppato e distribuito i primi test molecolari per il SARS-CoV-2 nel giro di pochi giorni. Quindi, insomma, siamo di fronte a un'efficienza cinese all'ennesima potenza in questo caso. Ora, fin da subito le autorità cinesi elaborano una narrazione ufficiale, diciamo semi-ufficiale, sull'origine del virus, che viene avallata quasi immediatamente anche dall'autorità di salute pubblica e dai media occidentali. Sostanzialmente si fa appello al fatto che molte delle persone che avevano inizialmente manifestato i sintomi di questa similpolmonite avevano dei collegamenti con il famoso mercato del pesce di Wuhan e diciamo si fa appello a questa cosa per sostenere la tesi, secondo cui il virus è sicuramente di origine zoonotica, cioè naturale, quindi sicuramente un virus che è partito, che viene da un animale, si sosteneva quasi sicuramente un pipistrello e che poi è saltato all'uomo attraverso delle fasi intermedie, si riceve attraverso quali degli altri animali venduti al mercato di Wuhan. Quindi questa narrazione si consolida molto presto ed è quella che tutti noi abbiamo sentito, infatti è una martellante fin dall'inizio, in un virus che viene da un naturale che viene da un pipistrello. Ora, allo stesso tempo però, diciamo, diverse persone cominciarono a far notare un aspetto, un dettaglio quantomeno curioso, ovvero che proprio a Wuhan si trova un laboratorio di massima sicurezza dedicato, guarda caso, proprio allo studio dei coronavirus, laboratorio che tra l'altro giocò un ruolo cruciale nell'avallare la tesi dell'origine naturale del virus perché proprio nei primi giorni di febbraio del 2020 pubblicarono uno studio in cui mostravano che vi era una delle grandi somiglianze tra il SARS-CoV-2 e un altro virus precedentemente individuato nei pipistrelli. Però, chiaramente, tante persone sottolinearono come, diciamo, le probabilità che si trattasse di una coincidenza, cioè che un nuovo coronavirus particolarmente aggressivo si sia stato rilevato proprio nella città in cui si trova un laboratorio che studia e, diciamo, geo-ingegnerizza come poi si sarebbe scoperto il coronavirus era quantomeno strano. Poi, diciamo, che la questione avrebbe assunto tinte ancora più surreali quando di lì a poco poi sarebbe emerso che un braccio del National Institute of Health che è sostanzialmente l'utivalente statunitense dell'Istituto Superiore di Sanità e nella fattispecie il NIAID che sarebbe l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive diretto da un personaggio di cui forse avrete sentito parlare Anthony Fauci che poi è diventato uno diciamo dei maggiori responsabili forse il principale responsabile magari dopo gli orgasmi e l'OMS della risposta globale alla pandemia ecco che l'Agenzia Federale di Fauci è emerso di lì a poco stava finanziando da anni ricerche sull'ingegnerizzazione dei coronavirus quindi sulla modifica dei coronavirus ufficialmente diciamo per la tesi ufficiale che i coronavirus venivano geo-ingegnerizzati per poter poi sviluppare più facilmente delle risposte vaccinali o di altro tipo la famosa gain of function ecco quindi nella migliore dell'ipotesi diciamo non stiamo parlando di un virus cinese come all'inizio si è sentito dire ma al massimo di un virus sino americano se vogliamo credere alla teoria della cosiddetta fuga da laboratorio ora ovviamente non è possibile addentrarci nei dettagli della vicenda delle origini del virus che però affrontiamo in maniera dettagliata nel libro che ha veramente dell'incredibile cioè ci sono delle cose veramente incredibili che riguardano tutta questa questione diciamo di questo studio congiunto sino americano sui coronavirus che veniva condotta a Wuhan comunque diciamo per adesso mi limiterò a dire che per più di un anno l'ipotesi della fuga dal laboratorio viene trattata alla stregua di una fake news delubricata a teoria della cospirazione derisa sui media e anche censurata su piattaforme quale Facebook e Twitter lo so per esperienza personale perché uno dei miei post appunto in cui parlavo di questa vicenda del laboratorio di Wuhan fu proprio censurato da Facebook quindi me lo ricordo bene infatti Facebook da questo punto di vista era molto esplicito cioè Facebook pubblicava ha sempre pubblicato la lista delle claim che avrebbe sottoposto a censura e per tanto tempo tra queste claim c'era anche appunto l'ipotesi che il virus fosse scappato dal laboratorio fosse scappato fosse diciamo uscito in maniera deliberata o meno dal laboratorio di Wuhan e così è rimasto almeno fino alla metà del 2021 quando a un certo punto diversi scienziati e diverse autorità governative occidentali hanno cominciato a riconoscere che invece diciamo di fronte alla crescente massa di prove che cominciavano a venire fuori che in realtà l'ipotesi della fuga dal laboratorio non solo non era una stramba teoria della cospirazione ma era una teoria invece da prendere molto seriamente in considerazione ora diciamo mi limito a dire che ad oggi la questione non è stata definitivamente risolta ma diciamo la teoria della fuga dal laboratorio è comunque considerata la più accreditata ormai da numerose fonti governative e non mentre non è emersa nessuna nuova evidenza invece dell'origine naturale del virus quindi diciamo breve parentesi sulla questione dell'origine del virus che ancora tutt'oggi ahimè non ha una risposta definitiva ma che la dice lunga diciamo sulle dinamiche politiche che hanno interessato la gestione della pandemia fin dai primissimi giorni perché fin dai primissimi giorni da prima ancora che venisse dichiarata la pandemia da parte dell'OMS diciamo la macchina del controllo delle informazioni sui social già era partita quindi è all'inizio di febbraio del 2020 che l'OMS diciamo chiama raccolta tutti i principali social network per allestire diciamo quello che poi definiranno il proprio sistema di contrasto alla misinformazione e disinformazione che poi avremmo scoperto essere qualunque informazione non allineata rispetto alla narrazione ufficiale indipendentemente da quanto fosse diciamo scientificamente fondata o comunque attirante alla realtà e poi avremmo scoperto che in realtà molti di quei claim erano estremamente fondati e estremamente attiranti alla realtà non solo riguardo le origini del virus comunque nei primi di gennaio come dicevamo i cinesi sequenziano il virus e poi nei giorni seguenti cominciano ad apparire i primi casi anche fuori dalla Cina Giappone Corea Thailandia e negli Stati Uniti quindi anche in occidente cominciano ad esserci qualche caso qua e là e il 23 gennaio è ovviamente una data assolutamente fatidica perché è la data in cui le autorità cinesi annunciano l'inizio di questo lockdown a Wuhan la prima volta che come dire molti sentono parlare di questa cosa del lockdown ed è interessante notare come all'inizio diciamo la reazione da parte dei media anche delle autorità occidentali sia stata una reazione di un misto di scetticismo e preoccupazione scetticismo comprensibile visto che si trattava di una misura assolutamente senza precedenti nel senso che il concetto di lockdown fino a quel momento non solo non era mai stato implementato ma non era mai stato neanche concepito so come dire nella mente neanche nella mente del più perverso della più perversa autorità di salute pubblica in nessuno dei piani pandemici sviluppati dalle singole nazioni dalla stessa OMS infatti prima del 2020 era presente il concetto di lockdown basti pensare che solo pochi mesi prima dello scopo ufficiale del focolai of one e quindi a fine 2019 l'OMS aveva pubblicato la versione aggiornata del proprio piano pandemico in cui non solo non era minimamente menzionato il concetto di lockdown ma proprio perché sostanzialmente non esisteva ma addirittura veniva esclusa la quarantena per gli individui esposti cioè si diceva anche se uno è venuto a contatto con una persona positiva comunque sconsigliamo la quarantena perché non la riteniamo particolarmente efficace e poi sottolineiamolo perché ci sono una serie di implicazioni etiche ovviamente diciamo facilmente immaginabili come poi abbiamo visto così come venivano escluse altre misure come il tracciamento degli infetti e così via cioè questo era il consenso scientifico perché poi abbiamo sentito tanto parlare di scienza e di consenso scientifico nelle settimane successive la realtà è che il consenso scientifico pre diciamo gennaio 2020 era questo cioè era che le pandemie si affrontano diciamo minimizzando il più possibile i danni alla società minimizzando il più possibile i traumi alla società concentrando le risorse sulla protezione dei più deboli ed evitando comunque appunto misure che provochino poi come dire dove la medicina sostanzialmente è peggiore della della malattia e diciamo per buona parte del mese di febbraio l'atteggiamento dei media delle autorità politiche anche occidentali come ricordava Gian Domenico è di relativa tranquillità e anzi abbiamo organizzato diverse iniziative come appunto i politici che si fanno i selfie al ristorante cinese o appunto la leggendaria campagna Milano non si ferma indimenticabile ora tutto questo cambia radicalmente a cavallo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo e ci sono una serie di eventi determinanti in cui purtroppo l'Italia ha giocato un ruolo cruciale il 23 febbraio è la data del primo di una lunga serie di DPCM del governo Conte che mette in quarantena i primi 11 comuni del nord Italia e poi appunto si susseguono una serie di eventi per cui i treni provenienti dall'Italia cominciano a essere fermati dalla frontiera insomma si comincia a scatenare un po' il panico il giorno seguente 24 febbraio data ancora più cruciale forse che l'OMS pubblica il suo primo rapporto sulla sua missione di inchiesta in Cina che contiene una serie di affermazioni diciamo a dir poco sorprendenti non solo viene sposata in toto sostanzialmente la teoria cinese sull'origine naturale del virus ma ancora più incredibilmente il rapporto rappresenta una sorta di peana un elogio alla risposta cinese alla strategia cinese dei lockdown che viene presentata sostanzialmente come l'unica soluzione valida per il contenimento di questo virus per il contenimento di questa pandemia e sostanzialmente vengono invitati un po' tutti i paesi a seguire la stessa strategia cinese ed ecco da quel momento in poi soprattutto nei primi di marzo diciamo è lì che inizia il delirio il panico comincia a scatenarsi a livello globale il panico viene alimentato anche da una narrazione mediatica che si fa sempre più martellante ma anche da una comunicazione istituzionale che è diciamo è difficile non vedere come finalizzata allo scatenare con lo stesso panico basti pensare per esempio ad alcune comunicazioni dell'OMS che ai primi di marzo sostengono che il tasso di mortalità del SARS-2 sarebbe stato addirittura il 3,4% quindi un tasso assolutamente al di sopra di quello che poi si è rivelato essere il reale tasso di mortalità che poi come oggi si ritiene che nel 2020 fosse intorno allo 0,3% per le persone sotto i 60 anni dello 0,07% per le persone sotto i 70 ma poi assistiamo a dichiarazioni come quelle di Ghebreyesus quindi il direttore generale dell'organizzazione umanitaria che dice cose del tipo siamo di fronte a un virus che minaccia tutta l'umanità quindi cominciamo ad assistere a questa narrazione molto bellicosa che sostanzialmente fa intendere che il virus sia qualcosa che minaccia indiscriminatamente tutta l'umanità nonostante appunto i dati che emergevano da Wuhan già all'inizio indicassero che il virus era altamente selettivo nel senso rappresentava una minaccia soprattutto per le persone anziane con serie malattie pregresse e soprattutto aveva un tasso di mortalità che in realtà era molto più basso questo già si vedeva a Wuhan di quello propagandato dall'OMS quindi ed è così che arriviamo pian piano alla data ancora più fatidica dell'11 marzo in cui non solo il covid viene dichiarato una pandemia dall'OMS ma in cui come sappiamo bene con una convergenza anche temporale abbastanza sorprendente l'Italia in aura dichiara il lockdown nazionale nonostante come sappiamo il virus fosse pressoché inesistente in tante regioni italiane al tempo e diciamo la scelta italiana del lockdown nazionale ha avuto un'importanza determinante poi diciamo nel consolidamento nel legittimare la politica del lockdown infatti va sottolineato che appunto molti al tempo hanno fatto passare l'idea che l'Italia stava semplicemente facendo quello che aveva fatto la Cina che già di per sé sarebbe stato abbastanza preoccupante visto che già quello era senza i precedenti ma in realtà la Cina aveva messo in lockdown una regione sicuramente ampia in termini assoluti perché vivevano decine di milioni di persone ma molto piccola in termini relativi nel senso che non solo anche quando hanno esteso il lockdown a tutta la regione dell'Hubei la regione dell'Hubei sostanzialmente rappresenta il 3% della popolazione cinese non so se rendiamo quindi è come se noi avessimo messo in lockdown solo Milano non tutto il paese cioè la Cina non ha mai fatto una cosa del genere noi invece inauguriamo quindi come dire una versione ancora cioè una versione estremamente cioè portiamo all'estremo quello che aveva iniziato a fare la Cina inaugurando appunto il concetto di lockdown nazionale in cui sostanzialmente tutta la popolazione nazionale viene messa sotto una forma morbida di arresti domiciliari e vengono bloccate quasi tutte le attività produttive quindi fatto ancora più senza precedenti rispetto a quello che aveva fatto la Cina e in quel momento nei giorni seguenti assistiamo appunto a questa rapida cristallizzazione di una narrazione che diventa in poco tempo granitica potentissima totalizzante che non ammette che non ammette la minima critica che viene alimentata appunto dall'OMS dai mass media in cui cominciano ad accadere ad apparire con cadenza regolare esperti di non meglio qualificata natura e dalle principali autorità di sanità pubblica dei principali paesi occidentali che cominciano a presentare il lockdown nazionale come l'unica soluzione possibile al contenimento di questo virus per evitare un'ecatombe di morti ci sono altre date importanti il 16 marzo esce un famoso studio di un epidemiologo inglese Neil Ferguson che stima nell'ordine di decine di milioni di morti nel Regno Unito e negli Stati Uniti quello che sarebbe accaduto senza lockdown dicendo che invece con il lockdown le morti si sarebbero stimate nell'ordine di poche migliaia di persone inutile dire che poi la realtà ha completamente smentito le stime di Ferguson comunque è interessante osservare e vado a chiudere come in quei giorni la propaganda è così martellante che addirittura alcuni tra i più potenti governi al mondo sono costretti a fare marcia indietro rendiamoci conto che nei primi giorni di marzo sia Trump negli Stati Uniti che Johnson nel Regno Unito avevano espresso delle riserve sulla strategia dei lockdown e adesso anche grazie ai messaggini che si scambiavano ai ministri inglesi che sono usciti fuori in questi giorni ci rendiamo conto che anche molte delle preoccupazioni di Johnson diciamo annetto di una certa coglionaggine del personaggio erano giustificate nel senso lui chiedeva ok ma esattamente qual è il tasso di mortalità ma qual è il rischio per le persone giovani cioè faceva delle domande che un politico era normale che facesse giustamente diceva siamo sicuri che chiudere tutto con tutte le conseguenze collaterali che questo può comportare sia la risposta giusta e diciamo tutti i suoi sostanzialmente consiglieri scientifici invece gli dicevano che quella era l'unica soluzione per evitare una negatombe sull'onda appunto soprattutto degli studi e quindi giusto per ricapitolare c'è una politica mai implementata prima mai concepita prima nel giro di fatto di un paio di poche settimane diventa l'unica soluzione possibile l'unica risposta possibile chi non è d'accordo è un pazzo un criminale uno che vuole vedere milioni di persone morire per le strade e diciamo alla luce di un'analisi di quello che è avvenuto secondo me è difficile derubricare tutto questo unicamente al panico alla confusione delle autorità nazionali anche se sicuramente diciamo per alcuni singoli personaggi sicuramente è stato così ma a mio avviso è difficile non vedervi anche da parte di alcuni di alcuni diciamo settori diciamo dell'apparato di salute pubblica globale una strategia una strategia se non è precisa e deliberata portata avanti fin dai primissimi giorni con una certa determinazione OMS in primis che ha utilizzato forme di propaganda per scatenare il panico e il terrore nella popolazione con l'obiettivo di far accettare la politica dei lockdown e appunto veicolando come dicevo prima anche i messaggi falsi cioè vera e propria disinformazione non solo sull'origine del virus ma anche sull'effettiva pericolosità del covid sappiamo che diciamo gli strumenti statistici adottati per calcolare le ospedalizzazioni e i morti erano quantomeno diciamo dubbiosi e in molti casi lo fanno ancora visto che non sono cambiati tanti protocolli cioè quindi qualunque persona che entrava in ospedale o che moriva dopo essere risultato positivo al covid veniva classificato come ospedalizzato e o morto covid indipendentemente dal fatto che il covid avesse contribuito alla morte di quella persona cioè qui siamo oltre il dibattito della morte con per covid cioè qui come poi è emerso in particolar modo negli Stati Uniti visto che là ci sono certe morti più eclatanti che da noi quindi lì ci sono tanti morti per armi da fuoco a un certo punto la gente ha cominciato a dire beh ma qui c'è gente che entra in ospedale perché gli hanno sparato e voi lo state classificando come morto da covid e tra l'altro negli Stati Uniti è ancora così a tre anni dall'inizio della pandemia tant'è che la questione oggi comincia a essere sollevata anche sui media mainstream recentemente alla CNN addirittura si è parlato del fatto di questi morti appunto sparati che vengono classificati come morti covid quindi e tante altre cose l'idea che non esistessero terapie precoci l'idea che non esistesse alternativa al lockdown fino all'arrivo dei vaccini e così via e appunto e qui chiudo quello che succede è che assistiamo all'emergenza di una narrazione non solo totalizzante ma armonizzata quasi a livello globale sulla pandemia cioè anche questo è stato un fatto assolutamente senza precedenti dove l'informazione dove come dire miliardi di persone in quasi tutti i paesi del mondo erano sottoposti a un'unica a una narrazione sostanzialmente fortemente gestita a livello centralizzato da un'autorità centrale che era appunto l'OMS che decideva cosa come dire che cosa era vero che cosa non era vero cosa si poteva dire che cosa non si poteva dire cosa era informazione corretta e cosa era disinformazione e quindi andava censurato questo è stato un evento assolutamente senza precedenti che ha come dire questo è quello che noi chiamiamo il covid consensus cioè a certo punto a marzo 2020 il covid consensus era ormai già consolidato con una forza incredibile senta che io mi ricordo di aver assistito questa cosa che anche con una certa paura e mi ricordo quanto fosse difficile se non impossibile esprimere delle critiche a questa cosa qua in quei primi giorni tant'è che neanche io ebbe il coraggio diciamo di andare sui social e dire quello che pensavo tanto era come dire veramente totalizzante la narrazione e il risultato qual è? Che di lì a poco ad aprile 2020 sostanzialmente poco più della popolazione globale all'incirca 4 miliardi di persone in più di 90 paesi molti dei quali paesi poveri e in via di sviluppo dove il lockdown hanno avuto conseguenze particolarmente devastanti e poi eventualmente di questo possiamo parlare si è ritrovata sottoposta a qualche forma di lockdown e questo è l'inizio sostanzialmente dell'incubo e qui inizia la prima fase dell'incubo che è appunto la fase dei lockdown a cui poi seguirà diciamo una seconda fase che forse che molti di noi ci ricordiamo anche meglio forse che appunto poi è la fase delle campagne vaccinali forzate di cui appunto però magari parlerò parleremo in un secondo momento visto che ho ampiamente superato il mio tempo limite per questo mi scuso e lascio la parola agli altri grazie grazie già hai messo molta carne su fuoco passo subito la parola a Sara perché una serie di cose molte cose che hai detto e spesso tornava un po' fuori questa questione proprio dei dati e anche del rapporto tra informazioni scientifiche e politica ad esempio faccio un piccolo orientato al mio personale mi ricordo ancora a luglio del 2020 che guardando i dati sulla mortalità per esempio del covid in Lombardia sembrava che il covid uscidesse il 20% delle persone che erano in contatto perché chiaramente siccome non c'era molta facilità a fare tamponi nei primi tre mesi chiaramente c'era solo in ospedale sono persone molto gravi quindi i dati erano ancora più spaventosi però appunto sul lato scientifico in realtà ci sono molte cose che ancora adesso tre anni ma ne sono più chiare ci sono paesi che hanno fatto politiche molto diverse come la Svezia una parte l'Ungheria con risultati anche opposti se vogliamo o anche all'interno del lockdown l'Italia ha fatto un lockdown molto forte però i dati non l'hanno premiato diciamo quindi vorrei chiedere quindi vorrei chiedere appunto a professoressa se rispetto al rapporto tra scienza e politica cosa è emerso quali sono stati insomma i rapporti soprattutto nei primi mesi insomma sì è un temone in effetti questo del legame tra scienza e politica che però in effetti mi interessa molto da tempo allora la prima cosa che voglio dire è che fin dall'inizio questo articolo in effetti è uscito a ottobre settembre ottobre 2020 l'articolo di Orton in cui appunto parla di sindemia io ho cercato proprio di insistere su questo su questo concetto perché credo che sia uno dei concetti chiavi che poi spiegano appunto chiaramente il legame tra scienza condizioni socio-economiche e salute pubblica Orton è il caporedattore di The Lancet e quindi dice sostanzialmente che la letalità della Covid-19 dipende anche dalle altre malattie concomitanti non trasmissibili che sappiamo colpiscono in misura maggiore le classi sociali che sono più in difficoltà quindi con minore disponibilità economica e sociale ma non solo queste persone come dire queste classi sociali vengono colpite maggiormente dalla Covid-19 ma anche perché hanno un minore accesso alle cure quindi minore prevenzione per le varie condizioni di vita precarie e quindi ovviamente e tra l'altro appunto questa condizione riguarda sempre più persone quindi non solo una minoranza ma quindi cosa dice quindi per affrontare una sindemia che quindi ha queste caratteristiche noi non possiamo concentrarci solo sul contenimento delle infezioni perché in generale lui dice un approccio puramente biomedico quindi quello che si concentra solo sui rischi da contagio che quindi investe solo appunto sull'approccio biomedico e quindi per esempio sul vaccino non può servire per ridurre la mortalità di una malattia la cui prognosi appunto è multifattoriale ecco quindi questo secondo me è un punto fondamentale anche perché appunto lui lo dice anche chiaramente il lockdown e quindi tutte le misure di contenimento dei contagi quindi la didattica a distanza eccetera hanno di fatto in realtà un effetto perverso cioè possono addirittura aumentare la disparità ovviamente tra le classi sociali e di conseguenza aumentare la mortalità per tutte le cause lo dice già nel 2020 e quindi era immaginabile che un approccio puramente biomedico quindi che indirizza tutte le risorse economiche solo appunto su tiamponi rincorsa al rischio zero che investe solo sui vaccini e non pensa alla sanità territoriale che terrorizza la popolazione trascurando le altre patologie avrebbe di fatto portato ad una crisi economica e sanitaria senza precedenti e un sistema sanitario ancora più in crisi come infatti è successo quindi ora di fatto in effetti osserviamo un aumento delle varie patologie trascurate a causa del lockdown o un aumento della mortalità per tutte le cause trasversali in tutti i paesi persino maggiore che durante la pandemia quindi questo è una delle questioni fondamentali proprio che spiega bene il legame appunto tra la società come si affronta una pandemia che ha tanti appunto multifattoriali di questo tipo ma c'è un altro aspetto ce ne sono vari aspetti che adesso butto lì che secondo me sono da tenere in mente quando affrontiamo appunto il legame tra società e tra scienza e politica a tratti ci sono stati delle espressioni anche un po' se vogliamo che hanno fatto un po' ridere ma che in realtà rivelano aspetti secondo me non banali e vi ricorderete il refrain per cui la mascherina sarebbe di sinistra e i no mask di destra c'erano tutte queste cose e in effetti ecco ci sono state tutta una serie di misure che sono state investite da etichette ideologiche un po' paradossari ma che raccontano in effetti anche delle verità interessanti è indubbio che dietro a scelte politiche di gestione della pandemia che poi sono state attribuite hanno usato gli esperti per dire gli esperti dicono questo in realtà ci sono ideologie ideali e idee di società differenti e l'aggressività per esempio della campagna vaccinale italiana mostra di fatto la visione di uno stato autoritario e paternalista che impone comportamenti ritenuti moralmente corretti con la motivazione di salvare il sistema sanitario nazionale e buona parte della cosiddetta sinistra ritiene che questo approccio sia tuttora corretto ora io invece ritengo che lo stato non dovrebbe entrare nella vita delle persone per decidere chi dovrebbero frequentare come è successo durante il lockdown o come i cittadini dovrebbero ridurre i rischi di ammalarsi come è successo con l'obbligo vaccinale per covid-19 e questo fatto a mio parere non dipende tanto dalla maggiore o minore efficacia nel ridurre i rischi del contagio o degli effetti collaterali più o meno gravi del vaccino trovo infatti limitato l'approccio di chi e tanti lo fanno si dannano per dimostrare che i vaccini non sarebbero efficaci o sarebbero pericolosi prima perché è parzialmente vero e va bene adesso non voglio entrare nel merito di questo se volete ci entriamo più tardi ma indubbiamente se fossimo andati verso una medicina personalizzata una prevenzione mirata che teneva conto dei differenti rischi che erano tra l'altro enormi età sesso varie caratteristiche non avremmo sicuramente avuto una serie di esagerazioni discriminazioni ma non è solo questo il punto anche se avessimo avuto dei vaccini un'imposizione di vaccini tradizionali con meno effetti collaterali più efficaci rispetto alle infezioni la situazione a mio parere non cambiava e non è nemmeno una questione di liberalizzare i vaccini quindi vaccini per tutti tema caro una certa sinistra oppure la retorica del vaccino cubano con la sua con la vaccinazione obbligatoria dai due anni lo ricordo ecco io penso che sia una retorica vuota quindi la critica deve riguardare tutta la gestione della pandemia fin dal primo istante io penso che a sinistra si debba avere maggior coraggio e riconoscere che proprio perché la politica per ragioni economiche e di strategie internazionali segue leggi di mercato e di potere che non hanno nulla a che fare con il benessere dei cittadini nel breve e nel lungo termine non si può accettare che lo Stato entri nella vita delle persone a stabilire comportamenti moralmente corretti e quali regole seguire pena la perdita del lavoro dello stipendio per ridurre i rischi di malattia di fatto colpovalizzando e ribaltando sui cittadini le responsabilità di decenni di tagli alla sanità quindi abbiamo visto un approccio autoritario e paternalista che infantilizzava i cittadini sempre ovviamente definiti nella narrazione corrente come analfabeti funzionali e incoscienti e tutto questo mentre in altri paesi abbiamo visto che c'è stata una comunicazione completamente differente una comunicazione quindi più pacata si sono affidati al senso di responsabilità dei cittadini senza peraltro vedere appunto un aumento della mortalità anzi il fatto appunto che altri paesi abbiano usato misure differenti mostra appunto che la scienza non è separabile dalla politica ma c'è un altro aspetto con la pandemia è emerso chiaramente anche come sia difficile sia stato difficile lasciare spazio ad uno ad uno scambio pacato libero anche con quegli scienziati indipendenti ce ne sono stati tanti che hanno portato senso critico nella gestione della pandemia l'abbiamo visto a Torino dove le istituzioni e le università si sono sottratti all'ultimo in Italia ma si è visto anche all'estero con grandi scienziati della Great Bariton Declaration che sono stati denigrati e zittiti con una violenza impressionante scienziati dai curriculum stellari il loro tentativo si sono messi insieme per farlo era di spiegare al pubblico che contrariamente alla narrazione mainstream in realtà non c'era un grande diffuso consenso scientifico a favore dei lockdown almeno tra gli scienziati che si occupano di salute pubblica in secondo luogo volevano stimolare una discussione all'interno della comunità scientifica proprio per ragionare su quali erano le misure più funzionali per proteggere le persone più vulnerabili perché c'erano altre proposte quindi la loro richiesta ha posto un problema politico perché figure come Anthony Fauci che sono tra i maggiori finanziatori al mondo della ricerca medica sono anche i difensori della strategia del lockdown per cui hanno di fatto orchestrato un'aggressiva campagna di denigrazione internazionale contro tutti coloro che sostenevano la grabbata declaration e anche coloro che non la sostenevano come io a Nidis per esempio e quindi tutti coloro che erano critici in qualche modo sui lockdown e la chiusura delle scuole quindi è evidente che si profila un problema politico perché se vogliamo che gli scienziati parlino liberamente in futuro bisogna fare in modo che i responsabili della politica sanitaria pubblica non siano le stesse persone che hanno tenuto le corde del finanziamento della ricerca medica concludo dicendo che fin dalla prima dall'inizio della pandemia sapevamo che la scienza non è neutra le misure di salute pubblica che vengono proposte e il modo con cui si interpretano i dati rispecchiano sempre la visione del mondo anche degli scienziati che li stanno studiando quindi anche il mio modo di muovermi nella pandemia non è neutro e oggettivo universale ma rispecchia un sapere parziale innanzitutto perché sono un'epidemiologa non sono una virologa sono una femministra e mi ritengo di sinistra per quello che una volta aveva questa parola significava e tutti questi elementi entrano nel mio modo di espormi nel taglio che do ai miei interventi anche il fatto di essere madre la mia esperienza come madre quindi dico che la scienza non può fornire verità assolute e metto al centro la questione che c'è anche una verità soggettiva che conta e che può fare la differenza una verità soggettiva che rende le mie analisi non universalmente valide ma non per questo meno valide meno segnante come dire da considerare mi spiego meglio la mia formazione politica come femminista ha sicuramente influenzato il mio modo di leggere la pandemia e non è un caso che abbia messo al centro della riflessione il fatto che le misure come lockdown e didattica a distanza abbiano ricadute differenti tra uomini e donne tra classi sociali tra differenti rischi e che si debba tener conto dei differenti rischi di malattia ma nasce anche dalla mia insofferenza verso derive autoritarie e paternaliste e sempre seguendo quella che ho imparato dal femminismo la pratica del partire da sé che ho lottato in prima persona avendo come prima preoccupazione le nuove generazioni e l'eredità che stiamo lasciando loro quindi mi colpiva che non si parlasse di cosa voleva dire per i giovani crescere in un mondo in cui l'incontro con l'arto da sé poteva sempre essere pericoloso stavamo insegnando questo quindi per mesi e mesi abbiamo alimentato paure per cui l'igiene la costante attenzione alla salute diventavano i perni attorno a cui riorganizzare ogni ordine relazionale e poi improvvisamente da un giorno all'altro siamo passati dall'emergenza pandemica all'emergenza della guerra quindi improvvisamente spendendo quindi spedendo tranquillamente armi e portando il rischio della bomba atomica senza vedere in tutto questo una contraddizione certo grazie 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 delle indicazioni precise da dare forse ne ha poche certezze anche oggi sicuramente non ne aveva tre anni fa quindi quello che a questo punto vorrei chiedere Andrea come si è passati appunto dal Milano non si ferma e dagli aperitivi sui navigli a Milano al lockdown in due settimane e poi diciamo tutto quello che è successo fino all'estate guarda grazie mille intanto allora inizio da quello che dicevi in apertura è un argomento lontano ora una cosa che abbiamo in comune con Sara e con Thomas anche con Alessandro Ricci ne abbiamo parlato tantissimo in questi anni io sono di quelli che ritiene che lo snodo fondamentale sia il lockdown molto più anche di tutto quello che ha seguito e perfino mi rendo conto di quello che sto dicendo perfino più della campagna di vaccinazione non sono uno che crede come sociologo come ricercatore che il mondo cambi da un giorno all'altro come si racconta in certi ambienti però credo che le dimensioni di novità di Thomas ce l'ha spiegato molto bene di assoluta come dire di impossibile che diventa che diventa reale nel giro di pochi giorni di poche settimane che Thomas descrive molto bene e Tommy nel libro secondo me sono un punto importante io non credo che sia finita io credo che siamo ancora là poi se volete dopo parliamo di due circostanze più recenti che sono molto interessanti interessanti purtroppo uno è quello uno riguarda il G20 che si è tenuto in Indonesia nello scorso autunno e l'altro è quello che sta succedendo a Ginevra dove come forse sapete l'OMS sta disegnando un piano generale di prevenzione delle pandemie che rischia letteralmente di essere tutto quello che Sara stava dicendo non dovrebbe mai essere comunque volevo partire appunto da dove è arrivato Thomas cioè la prima ondata sostanzialmente abbiamo in comune il fatto che riteniamo il lockdown l'elemento fondamentale c'è un'altra cosa in comune intanto vi consiglio il libro di io purtroppo ho dovuto leggere molto sul covid il libro di Thomas e di Toby Green è secondo me per distacco il libro più completo e più documentato che ci sia quindi intanto facciamo i romani che si fanno i complimenti tra di loro e però abbiamo in comune insomma abbiamo in comune anche una passione per uno dei due grandi eroi civili di questa storia che si chiamava Mario Finotti che è questo meraviglioso signore di 91 anni che durante l'isolamento in una RSA è morto perché ha cercato di scappare perché non ne poteva più di stare da solo quello per me è uno dei due da destinare all'altare della patria il secondo eroe non so se ricordate un video di marzo aprile del 2020 è il runner della spiaggia di Pescara quello per me quello per me purtroppo non riesco a rintracciarlo quello per me è proprio cazzo senato quella è un grande la migliore immagine di libertà che io abbia mai visto se la gioca col nido del culo allora perché è importante ottobre secondo me perché Thomas ci ha raccontato una macchina micidiale che ha ragione come sociologo che si occupa prevalentemente di media è spaventoso come per la prima volta nella storia abbiano detto tutti la stessa cosa da tutte le parti i vecchi media cioè i giornalisti e le piattaforme social che hanno censurato poi su questo torno alla fine quella roba lì ha funzionato e ha funzionato perché io questo me lo ricordo l'ho vista un po' diversamente perché ero a Roma e a Roma l'impatto della pandemia non c'è sostanzialmente mai stato mentre in Lombardia c'è stato però ha funzionato molto su una paura la gente aveva paura di morire se ricordate l'estate del 2020 l'estate del 2020 l'abbiamo passata con quello che succede cioè se tu lasci liberi le persone la vita quotidiana si riappropria delle sue cose perché e questo lo sappiamo dai testi di storia è in larga parte indipendente da tutto il resto cioè durante la guerra mondiale la gente si sposava andava al bar e giocava a pallone questo dà la misura della violenza di questo attacco che è stato portato veramente alla fibra ultima del modo in cui le persone vivono Alessandro Ricci ha scritto le persone hanno ripreso facendo il geografo hanno ripreso gli spazi che erano loro la disciplina in larga parte è una dimensione spaziale cioè la zona rossa qui puoi andare qui no percorso pedonale è forzato sul marciapiede si cammina così sull'altro marciapiede si combina così questo significa sostanzialmente che d'estate non viene fregata più niente a nessuno del covid nell'estate del 2020 e quindi e quello che sto per dire non è assurdo poi ci torno alla fine a certo punto si sono messi là tra loro hanno detto vabbè come famo qua qua c'è più paura nessuno in autunno succedono due cose importanti una l'ha citata Sara il 5 ottobre del 2020 tre grandi epidemiologi uno si chiama Giganta Battacaria ed è di Stanford uno si chiama Martin Kuldorf ed è di Harvard e una si chiama Sunetra Gupta ed è di Oxford università insomma un po' così diciamo di una discreta importanza si riuniscono in un posto che si chiama Great Barrington in un centro di ricerca finanziato da privati scrivono una cosa che si chiama dichiarazione Great Barrington in cui loro dicono stiamo sbagliando tutto i danni di queste misure come già hanno detto Sara e Thomas sono spaventosi per una malattia che è innocua per il 99% della popolazione e loro chiamano protezione focalizzata la proposta di fare esattamente l'opposto cioè lasciate libera la gente così si infetta e si immunizza e concentriamo invece sugli anziani che vuol dire i tamponi li facciamo solo a loro spieghiamo loro che i parenti li devono vedere all'aperto e non la chiusura delle scuole l'abbiamo parlato mille volte con Sara cioè se il problema è che i bambini infettano i nonni tu chiudi le scuole cioè questo qua è un errore o l'hanno fatto apposta poi ne riparliamo magari è folle secondo me la dimensione di follia assoluta è stata di fronte ad un virus respiratorio di alle persone che devono stare chiusi dentro sei scemo cioè ci sono le foto della spagnola che ha ucciso il 2% della popolazione mondiale compresi i bambini e così via in cui portavano gli uffici nelle strade perché è ovvio virus respiratorio esci no virus respiratorio chiuso il problema è che però ha funzionato allora la dichiarazione di Great Barrington è una cosa in cui tre scienziati di fama mondiale di tre delle università più importanti del mondo dicono abbiamo sbagliato tutto secondo me pochi di voi ne hanno sentito parlare perché non ne ha parlato nessuno nella ricerca che abbiamo fatto sui media italiani Simona Pezzano ci ha lavorato con me letteralmente non è stata nemmeno nominata a livello invece di reazione è interessante il fatto che esiste una cosa negli Stati Uniti che si chiama FOIA Freedom of Information Act in base al quale se tu fai ricorso teoricamente dovresti accedere a tutto quello che le persone che hanno in carichi pubblici si scambiano anche se sono conversazioni private proprio in realtà come voi scrivete nel libro in questo caso è stato vero fino a un certo punto molte cose non sono state rilasciate però è interessante perché Collins l'8 ottobre del 2020 sono passati tre giorni Collins scrive a Fauci sono Collins il capo del National Health Institute Fauci il capo della sanità americana e dice ah hai visto questa roba qua e gli manda il link questa proposta da tre epidemiologi fringe non va bene perché sta guadagnando un sacco di attenzione addirittura l'ha fermata un premio Nobel è un biologo di Stanford che si chiama Michael Leavitt ci deve essere una veloce devastating campagna pubblica per farli a pezzi due giorni dopo Collins viene intervistato da tutta la stampa americana e usa esattamente l'espressione fringe che vuol dire gente marginale quando il senatore repubblicano dell'Arizona Ron Paul porta in audizione fringe e pezzi è quasi proprio mezzo matto porta in audizione Fauci al senato degli Stati Uniti lo prende in giro ad alta voce su questa cosa qua dice certo deve essere proprio pieno di gente fringe ad Harvard e a Oxford ecco il consenso è stato costruito così tra l'altro uno dei tre Martin Kuldor ha fatto causa alle due principali compagnie social a cui fanno capo Facebook e Twitter perché è stato boicottato letteralmente cioè quando lui ha detto quando un epidemiologo di Harvard ha scritto vaccinare i bambini non ha senso gli è stato messo il bollino della disinformazione c'è un'altra cosa che succede in autunno che la gente non ha più paura allora non facciamo circola l'idea che qualcuno pensa che si possa non fare il lockdown e poi per risolvere questa cosa della paura viene fuori la soluzione più facile del mondo che è la variante ora di varianti del covid dall'inizio all'autunno per nove mesi non parla nessuno a un certo punto c'è qualche biologo microbiologo ed epidemiologo che alza che alza il dito e dice secondo me il coronavirus ha mutato è stato fucinato perché ovviamente io non credo in nulla ma in Darwin ne ci credo è assolutamente ovvio che per la coevoluzione tra l'organismo ospite e il virus con le mutazioni il virus diventa via via più nocuo le epidemie finiscono così ma questo è assolutamente ovvio se una variante si diffonde di più è perché è meno aggressiva cioè non c'è niente c'è il virus che uccide le persone circola meno cioè è proprio pura logica basta aver letto un libro che è l'origine delle specie uno e serviva uno basta ora sta cosa delle varianti però è interessante perché se ne comincia a parlare in autunno con la variante inglese la cosiddetta B.1.1.7 e poi in inverno all'inizio dell'inverno 2020-21 con la variante brasiliana la cosa interessante perché vi dico la cosa interessante perché in realtà uno dice vabbè ma le varianti prima c'erano e io ora vediamo qua sul sito dell'istituto superiore di sanità quelli brusaferro quelli che ci hanno seccato il convegno a Torino c'è scritto i virus in particolare i virus RNA come i coronavirus evolvono costantemente attraverso mutazione cioè non è che c'è il virus e poi il virus madre e poi ogni volta che il virus replica ci sono dei piccoli delle piccole accidentali mutazioni è assolutamente normale il virus è un organismo non cellulare non si può riprodurre da solo e quindi usa attraverso gli altri organismi si riproduce c'è una cosa interessante che ho trovato che è una ricerca che è uscita su Nature Communications su Nature Communications che mi pare il 27 aprile 2020 viene battuta dall'ANSA che parla di 7000 mutazioni del coronavirus dopodiché di questa roba però non parla nessuno se ne comincia a parlare in autunno io in autunno scrivo una piccola cosa che mando al manifesto con la cui casa editrice avevo fatto il primo conflitto che era un articolo in cui dicevo questa cosa ha delle varianti no non ci potete cascare un'altra volta è evidentemente una balla ovviamente il manifesto me la tira dietro provo al Corriere della Sera non perché io credo nel Corriere della Sera ma perché il vice direttore insegna nella mia università il direttore del nostro master e neanche mi rispondono alla fine finisce sul blog di Luca Rigolfi che è un collega sociologo della Università di Torino il blog della sua fondazione si chiama IUM in cui a me non piace citarmi però io scrivo una roba che la dico perché poi torniamo a quello di cui parlavamo e dico ma è un caso che proprio mo parlate di varianti quando le persone hanno smesso di essere spaventate del virus interrogativo ora questa cosa qua perfino Luca Rigolfi la pubblica mettendoci sotto un disclaimer grosso come una casa più grosso dell'articolo in cui dice però questo non è il punto di vista della fondazione IUM della fondazione IUM ho detto o è IUM ho detto fai come ti pare ora adesso io arrivo a un punto in cui scusate questo l'ho già fatto non riesco mai a finire senza ridere però ci voglio provare allora perché perché poi dici le varianti questa è bellissima allora a che eravamo arrivati a quella brasiliana ok perfetto poi poi ad un certo punto viene fuori la variante sudafricana poi questo è interessante nel senso che aspettate che qui ho le date a un certo punto intorno a marzo del 2021 si comincia a parlare di una quantità di varianti assolutamente implausibili cioè e ora vi dico sempre in maniera assolutamente diseducativa come se ci fosse qualcosa di strano nel fatto allora la variante la variante di variante sudafricana si parla il 3 febbraio 2021 isolata a Varese tra il 17 e il 25 marzo del 2021 quindi nel giro di pochi giorni viene fuori una variante new yorkese nelle Marche quella nigeriana in valle d'Aosta poi a Palermo cito tra virgolette quattro varianti sconosciute TGR Sicilia a Novara sono più ambiziosi la super variante italiana altra cosa importante è la prima volta che si parla di variante indiana è il 25 marzo e si chiama doppia variante non si sa perché doppia dopodiché non c'è casca nessuno loro la chiamano variante indiana siccome non c'è casca nessuno la chiamano delta è la stessa è la stessa questa cosa noi negli studi sui media la chiamiamo reframing cioè cambi il frame di interpretazione che è diverso a proposito di scienza e potere è diverso dal cambio di paradigma cambio di paradigma cioè se scopri una cosa grossa che è talmente nuova che ti costringe a fare un altro tipo di ricerca per interrogarti su quella cosa invece il frame è proprio che ti dimostra che quello che hai davanti agli occhi non è vero questo è stato fatto in quell'autunno mentre il primo lockdown ha avuto il sostegno di una paura che effettivamente c'era lì è successa una cosa veramente molto molto particolare poi ad un certo punto torno alla variante sudafricana qualcuno però si deve accorgere del fatto cazzo ma la sudafricana l'abbiamo già detta prima era qua perché la variante sudafricana era quella di Varese e allora la chiamano Omicron si sapeva benissimo dalle ricerche che arrivavano dal Sudafrica che fosse innocua la stampa la prende bene questa è la stampa 25 novembre 2021 virgolette aperte e chiuse la variante dell'orrore questa la variante dell'orrore perché poi poi andiamo avanti poi a un certo punto c'è una misteriosa variante nelle fogne di New York il flurona la combinazione tra covid e influenza stagionale il delta crono perché a certo punto si ibridano molto interessante e la mia preferita di dicembre del 2021 l'ho citata anche a Torino è la Omicron 2 e dicono è venuto a fare una variante invisibile che non risulta ai tamponi e tu dici vabbè non è chiaro senza sintomi magari ma poi il bello che quando parli con i giornalisti noi nella mia università abbiamo voluto il Corriere della Sera loro ti rispondono ma non è vero che noi facciamo terrorismo io dico ma scusa quando ero bambino d'estate faceva caldo perché c'era l'anticiclone di Azor adesso l'anticiclone si chiama Lucifero ora gli ultimi virus ma noi non facciamo terrorismo Centaurus Kraken Ortrus Cerberus Grifon Cerberus è uno è il cane dell'inferno Grifon è una figura mitologica Harry Potter che tira il carro di Dante nel purgatorio Kraken è un mostro marino una specie di polipo gigante che affonda le navi loro dicono no no ma noi mica facciamo ora la cosa è ancora peggio c'è una cosa che vi vorrei indicare perché è molto importante ne parlavamo prima tra noi e se andate sul sito del oddio mi sono ascoltato il nome del giornale del telegraph c'è un'intera sezione che è dedicata a quelli che si chiamano Hancock files o lockdown files sostanzialmente è venuta fuori una roba di svariate migliaia di scambi di chat su whatsapp tra questi personaggi Hancock è segretario alla salute in cui viene fuori quello che era assolutamente palese cioè intanto la mancanza di rispetto con cui questi prendono in giro quelli che stanno in quarantena ma poi tra di loro dicono vabbè ma non c'è nessun motivo di chiudere scuole le mascherine non è chiaro se servono la mortalità è bassissima cioè dicevamo è un errore lo sapevano benissimo ve ne cito soltanto una che è la mia preferita perché ce l'ho qua perché torna con quella roba che io avevo scritto per la fondazione Yuma alla fine allora è un whatsapp del sono su whatsapp sulla chat è il 13 dicembre 2020 trovate tutto lì sul sito tra Hancock e Damonpool che è il responsabile comunicazione del dipartimento di salute allora a un certo punto Hancock che ci tiene molto ai cittadini dice we frighten the pants of everyone with the new strain cioè con il nuovo tipo di covid la traduco in una maniera migliore li facciamo murire tutti di paura e poi dice però stesso minuto sempre alle 11 alle 11 e 37 dice però la complicazione è che ci si parla troppo di sta brexit non va bene cioè perfetto a un certo punto c'è la mia frase preferita Hancock a pool dice when do we deploy the new variant cioè proprio ma tra l'altro deploy è interessante perché vuol dire di spiegare ma c'è anche nel linguaggio militare cioè quando nei blockbuster americani il presidente sgancia la bomba atomica e dice deploy cioè quando è che tiriamo fuori la nuova varianta e quell'altro gli risponde e Damonpool dice ci stiamo pensando da un po' però ancora c'è figuriamo figuriamoci ci stiamo pensando da un po' e questo è tra l'altro poi in un altro passaggio a un certo punto dice no c'è il problema che però siamo attenti perché se parliamo di varianti poi la gente non crede più ai vaccini e quell'altro risponde allora parliamo pure dei vaccini parliamo anche bene dei vaccini questo è stato sostanzialmente e io sono di quelli che non pensa che sia finita poi dopo parliamo del G20 e dell'OMS magari per adesso basta ecco allora abbiamo già parlato di tantissimi temi però quello che abbiamo cercato di fare è stato un po' di tenerci sulla prima fase diciamo della pandemia in questi tre anni cioè la fase del lockdown una fase in cui per esempio anche se persone come Bocelli lamentavano della difficoltà di stare in lockdown però chiaramente già alcune difficoltà differenze sociali su come la cosa diciamo mia vissuta già c'era perché il lockdown era diciamo lineare no? cioè sono tutti in casa però chiaramente non era la stessa cosa chi aveva una bella villa chi magari diciamo come alcuni di sotto sopra magari che erano in Erasmus in quel periodo sono trovati magari chiusi in casa da studente per dei mesi eccetera quindi sono già immerse lì delle differenze però poi è subentrata la seconda fase quella dove c'era anche il vaccino i vaccini anche usare il termine plurale che però hanno proprio per rimbogliare la gente non solo gli anziani più a rischio a vaccinarsi ma anche i giovani fino ai bambini chiaramente sono state usate politiche differenti perché in Italia abbiamo vissuto insomma una delle situazioni più rigide però chiaramente questo ha avuto ancora di più degli impatti sociali molto asimmetrici molto differenti sul terreno quindi come prima cosa chiederei a Sara se lo faccio uno spaccato visto che è approfondito particolarmente sia in ambito sanitario che in istituzione dunque voglio dire una cosa rispetto alle varianti ma anche perché come sapete io uso sempre questa espressione ma che in effetti mi piace ecco anche come mia pratica di pensiero che è quella che dico spesso di tenere la complessità e quindi in questo ambito cioè io quello che ho visto per esempio io mi sono mossa principalmente appunto sia a livello scientifico perché ovviamente mi sentivo anche come dire responsabilizzata rispetto a quello che accadeva e avevo contatti con colleghi in altri paesi che la vedevano appunto che davano una visione differente su come poteva essere affrontata la pandemia rispetto a quello che capitava stava capitando in Italia per cui io ho cercato di in realtà fin da subito di esprimere sui social senso critico e non solo sui social ho scritto appunto per effimera per Wuming e sono stata attaccata in modo brutale da soprattutto diciamo da un movimento che diciamo che io insomma diciamo da un mondo che io pensavo simile politicamente vicino ecco a me c'è stato un livello di aggressività mostruoso per cui ho lavorato mi sono messa insieme ad altri scienziati anche per avere le spalle un po' più forti quindi ci siamo messi insieme a lavorare abbiamo lavorato a livello scientifico un po' perché vedevamo che all'apertura delle scuole in altri paesi non succedevano questi drammi di cui parlavano per cui eravamo abbastanza forti in altri paesi le cose vanno abbastanza bene ma ovviamente la critica era che all'Italia è diversa in Italia abbiamo scuole sovraffollate i rischi sono terribili e quindi ok allora noi ci siamo messi lì abbiamo raccolto i dati abbiamo raccolto i dati da contact tracing abbiamo dalle scuole con l'azzolina che si è messo in gioco quindi abbiamo raccolto tutti i dati italiani abbiamo prodotto che appunto all'inizio l'abbiamo messa a disposizione come si faceva in quel momento della comunità quindi non subito pubblicata e ovviamente siamo stati attaccati dai media anche dai giornalisti scientifici che ci hanno detto questa obbligazione non serve a niente è arrivata la variante inglese ovviamente e quindi se la variante inglese cambia tutto tutte le analisi che avete fatto voi non servono assolutamente a nulla giuro è stato impressionante poi non solo allora pubblichiamo su The Lancet Regional Head voi avete pagato per pubblicare su The Lancet Regional Head che è una rivista che non vale niente in passato zero cioè gli attacchi che avevamo erano veramente ovviamente non li abbiamo assolutamente pagati ma tutto veniva montato screditando chi ovviamente cercava di portare dati ma ecco però l'altra cosa interessante che volevo dire rispetto alle varianti è che io ho avuto colleghe che di alto profilo scientifico con cui io all'inizio mi confrontavo che mi hanno anche sostenuto sulla battaglia delle scuole che nel momento in cui è arrivata l'altra variante mi hanno detto Sara fai attenzione perché tu stai dando dei messaggi pericolosi specialmente quando ho cominciato a dire facciamo attenzione rispetto ai bambini è veramente necessario vaccinare in modo così aggressivo tutti i bambini sul Corriere della Sera abbiamo fatto qualche domanda di buonsenso che veniva anche da altri paesi tra l'altro e ovviamente quindi mi hanno mi hanno scritto preoccupate perché io mandavo messaggi molto pericolosi questo per dire che non è solo come dire le stesse scienziati c'erano scienziati come dire non come dire sciocchi che erano immersi in questa comunicazione e che facevano delle pressioni psicologiche appunto così come è stato anche durante il lockdown moltissimi colleghi mi hanno detto Sara fai attenzione perché mandi dei messaggi pericolosi quindi una pressione anche psicologica veramente pesante nonostante questo appunto io ero abbastanza sicura anche perché appunto in genere quando lavoro lavoro in modo tosto io in un anno ho lavorato una pazza per tenere dietro al mio lavoro che riguarda l'oncologia e questo lavoravo sempre ogni fine settimana ogni sera studiavo in continuazione oltre quindi a analizzare i dati continuavo a studiare la letteratura scientifica quindi ero abbastanza certa di quello che andavo infatti quando io non vado in televisione in genere perché non guardo la televisione quindi non conosco neanche questi programmi quando mi hanno invitato per le scuole sono andata un po' perché sono ero un po' in modo naif sono andata senza sapere realmente cosa stavo facendo ma un po' perché ero talmente sicura di quello che andavo a dire che ho detto no queste cose vanno dette cioè basta eppure appunto anche lì c'è stato i giornalisti ma come hanno attaccato a me hanno attaccato persone come Ioannidis che era un grandissimo quello un curriculum e lo voglio ribadire cioè Ioannidis è stato attaccato dal manifesto che gli ha dato del corrotto semplicemente perché ha pubblicato l'infection fatality rate da studi internazionali cioè veramente una cosa che mi ha fatto inorridire e così hanno continuato per mesi e mesi allora quindi noi abbiamo continuato perché io ero abbastanza sicure quello che stavo facendo e quindi abbiamo lavorato a livello scientifico ma abbiamo lavorato anche a livello di ricorsi al TAR e quindi abbiamo fatto svariate ricorsi al TAR insieme a giuristi e insieme anche tutta una società che si è mossa in modo trasversale e devo dire che è stato veramente un piacere vedere come nascevano queste associazioni gruppi spontanei soprattutto lo voglio dire da parte delle madri che sono andate in piazza e hanno detto basta non è accettabile che tutto venga riaperto tranne le scuole soprattutto al sud tra l'altro in cui abbiamo una dispersione scolastica impressionante e con una narrazione ovviamente totalmente insensata senza valide evidenze scientifiche e tutti i ricorsi al TAR che abbiamo fatto Lombardia Campania Emilia Romagna a Firenze al Consiglio di Stato tutti ci hanno dato vinta tutti quanti io ero impressionata ero quasi spaventata le facevo senza rendermi conto di quello che stavamo facendo lavorando di notte alle tre di notte ero in questo vortice ma ho detto si deve fare proviamoci ma non ero impressionata perché erano talmente tante le evidenze scientifiche e il fatto che non si facesse un bilancio rischi benefici e quanto fosse pesante gli effetti sulla società era chiarissimo e stava emergendo con forza che quindi le abbiamo vinti tutti quanti e quindi siamo riusciti finalmente ad aprile del 2021 a fare riaprire le scuole quando ormai avevano aperto già in altri paesi da tempo ecco però adesso ci tengo a dire una cosa quindi questa come dire c'è stata appunto un investimento come se e ancora adesso me lo vengono a dire l'unica soluzione per la pandemia fosse il vaccino ma anche per riaprire le scuole cioè non si possono riaprire le scuole finché non arriva il vaccino hanno arrivato il vaccino ah ma gli insegnanti dovranno essere tutti vaccinati prima di riaprire le scuole quindi sempre come dire non bastava mai ecco allora ci tengo a dire una cosa che esatto esattamente infatti poi ovviamente non erano mai sufficienze appura nel 2022 nel 2022 sì no in realtà appunto abbiamo aperto ma adesso l'ultimo articolo uscito adesso da Baligia Blu che vi leggo qualche straccio perché sono veramente divertenti allora un loro articolo appena uscito che commentano si sgretolano ancora una volta i presagi più oscuri sugli effetti del lockdown che erano serviti a condizionare ideologicamente le scelte governative sull'apertura delle scuole sulla DAD sulle misure di protezione in classe nei mesi più difficili secondo Valigia Blu i recenti studi mostrerebbero un miglioramento dei rapporti familiari del rendimento scolastico e un buono stato di benessere globale di ragazzi e ragazze questa curiosa lettura sulle magiche sorti e progressive del lockdown e della DAD nasce da uno studio che riporta i seguenti dati rispetto a un'andagine prepandemica aumento di giovani in sovrappeso e obesi aumento dell'uso problematico dei social media incremento del cyberbullismo dal 9 al 15% aumento dell'abuso di alco dal 16 al 19 21% nella fascia dei 15 anni però abbiamo una bella notizia il gioco d'azzardo la pandemia pare abbia giovato sul gioco d'azzardo magari sperano che con il nuovo lockdown ci cureremo dalle ludopatie ora sembra che i ragazzi abbiano in effetti riportato anche di un miglioramento nei rapporti familiari peccato che come dire in un'età come l'adolescenza in cui bisognerebbe uscire di casa ecco non mi sembra un grande guadagno ma poi continuano la pandemia non ha peggiorato la salute dei ragazzi dicono e leggono un documento dell'istituto superiore di sanità in cui c'è scritto due adolescenti su cinque dichiarano che la propria salute mentale e la propria vita in generale hanno risentito negativamente la pandemia non solo sono aumentati i sintomi psichici ma è aumentata l'assunzione di farmaci soprattutto nelle femmine che sono quelle con un stato psicologico peggiore e più sintomi ora pare evidente che anche i dati più espliciti ormai universalmente riconosciuti a livello di comunità scientifica internazionale vengono travisati e distorti per sottenere tesi preconcette quindi esattamente il contrario del metodo scientifico di cui i giornalisti hanno straparlato per tre anni quindi una modalità giornalistica che è veramente frutto di una lettura ideologica e strumentale che finisce di fatto per stravolgere qualsiasi dato proprio per sottenere le proprie scelte ora però questo è successo a livello di media però voglio dire un'altra cosa anche a livello di comunità scientifica non è andata molto meglio perché abbiamo visto moltissimi studi di grande valore come quelli di Ioannidis che hanno trovato hanno faticato a trovare spazio in riviste importanti io stessa ho faticato a far pubblicare alcuni dei miei studi che non erano in linea ovviamente con la narrazione mainstream per esempio un esempio emblematico è una lettera che abbiamo spedito per segnalare un errore che c'era in una metanalisi su The Lancet quando uscite le prime metanalisi che riguardavano le mascherine allora all'inizio l'OMS diceva che le mascherine nella popolazione generale non servivano poi esce questa metanalisi che invece ha assolutamente fondamentale noi vediamo un errore io sono esperta di metanalisi vedo un errore nella cosa quindi non sono l'unica tra l'altro quindi scriviamo una lettera immediatamente per segnalare questa cosa ci impiegano un anno intero a pubblicarla non posso dire che è sbagliato quello che scriviamo ci impiegano un anno per pubblicarla ora adesso esce quanti anni sono passati ormai due anni la Cochran di una review che è importantissima di Tom Jefferson a primo nome che appunto sostiene dimostra cose che sapevano ormai tutti che le mascherine nella popolazione generale non servono altra cosa come le mascherine in ospedale ovviamente quindi bisogna sempre fare distinzioni ma nella popolazione generale imporre a tutti la mascherina così come è stato fatto era totalmente inutile non c'erano almeno basi scientifiche su cui allora Carl Hennigan quando ha pubblicato la pubblicazione scientifica con un trial randomizzato è stato bannato da Facebook Carl Hennigan che è professore di evidence based medicine di Oxford quindi veramente paradossale c'è un trial randomizzato quindi è ovvio che anche la comunità scientifica ha sofferto di queste pressioni che hanno a che fare quindi con pressioni politiche indubbiamente e quindi ecco è estremamente difficile riuscire a far emergere come dire anche una verità ecco o almeno tenere una discussione libera anche a livello di comunità scientifica adesso io avevo tutta una serie di dati sugli aspetti psicologici ma che vi salto perché tanto ormai li sappiamo tutti noi sappiamo ormai è chiaro che il lockdown e la chiusura delle scuole ha avuto un effetto deleterio sia a livello di dimensioni psicologiche i dati continuano a uscire anche sull'apprendimento alla fatica di questi giovani è ovvio che poi tra l'altro queste cose qua vengono pagate più pesantemente tra tutte le classi sociali e anche i gruppi etnici che ovviamente già prima erano in difficoltà e che ovviamente adesso fanno ancora più fatica quindi chiudo qua ho subito la parola a Thomas sullo stesso tema perché buona metà del suo libro è dedicato sullo stesso tema che avete con il taglio internazionale sì ecco diciamo andando poi ad analizzare adesso gli aspetti più prettamente economici e politici della pandemia anche se ovviamente come dire già questi elementi hanno attraversato tutte le cose che già abbiamo detto ma sì diciamo l'analisi che noi forniamo nel libro è che la pandemia la gestione pandemica non la pandemia in sé perché le pandemie sono sempre esistite ma questo particolare approccio biopolitico e biomedico alla pandemia non è un fulmine a ciel sereno cioè non è qualcosa che come dire emerge dal nulla ma è il risultato di trasformazioni profonde che erano avvenute nella natura del capitalismo occidentale in particolare che poi è sempre più capitalismo globale ormai anche se non anche se non del tutto e nel senso che noi da decenni assistiamo a diciamo la tendenza a un capitalismo sempre più autoritario che sempre più sente bisogno di ricorrere a forme diciamo a stati di crisi a stati di emergenza per poter diciamo legittimare la propria autorità legittimare il proprio potere giustificare un potere che gode di consensi sempre sempre meno diffusi nella popolazione è un capitalismo che da recenni va verso forme sempre più oligarchiche sempre più plutocratiche in cui il potere e il denaro sono concentrati nelle mani di sempre meno persone meno soggetti meno come dire super entità corporative transnazionali è un capitalismo sempre più diseguale perché nel mentre che come dire al picco della piramide si accumula sempre più ricchezza e potere poi le condizioni materiali del resto della popolazione in realtà sono andati erodendosi da tempo sappiamo in particolar modo in Italia lo sappiamo bene è un capitalismo sempre più antidemocratico in cui i processi democratici ormai si vanno erodendo dall'interno a tutti i livelli tant'è che ormai già prima della pandemia si parlava apertamente di post-democrazia ormai di un capitalismo di una democrazia nei paesi occidentali di cui ormai rimaneva solo il guscio rimanevano semplicemente i rituali come le elezioni ma in cui in realtà chiaramente già i cittadini non avevano quasi nessuna capacità di influire sui reali processi decisionali soprattutto a livello diciamo di politiche macroeconomiche questo in virtù di appunto processi di trasferimento anche di potere da organismi nazionali e quindi quantomeno potenzialmente democratici come lo Stato-Nazione in primis da organismi sopranazionali l'Unione Europea tema di cui noi io e Gian Domenico ci occupiamo da anni di cui ho scritto tanto ma non solo come poi abbiamo appreso durante la pandemia anche istituzioni come l'OMS che a loro volta hanno subito una trasformazione organismi che nascono come organismi internazionali quindi ingaggiati in un rapporto tendenzialmente orizzontale con gli stati che comunque rimangono i depositari della sovranità a organismo sempre più sovranazionale o globale cioè internazionale e globale non sono due termini sinonimi infatti noi a partire dagli anni 90 assistiamo al passaggio dalla salute pubblica internazionale dalle international health alla global health che possono sembrare termini sinonimi ma in realtà non lo sono assolutamente perché appunto per governance globale si intende invece una governance molto diversa in cui un'istituzione come l'OMS è da un lato è ingaggiata in un rapporto verticistico con gli stati membri per cui imparta gli ordini agli stati membri ma soprattutto in cui le decisioni non sono più a pannaggio solo degli stati ma non sono sempre più a pannaggio anche di tutto un ecosistema di cosiddetti stakeholder e quindi grandi fondazioni private come per esempio la Gates Foundation ma anche i media grandi figure influencer di varia natura e poi ovviamente diciamo soggetti privati ovvero l'industria che viene considerato un soggetto alla pari se non addirittura superiore agli stati nazionali ecco questi processi erano già in atto da prima della pandemia e anzi è proprio questa realtà pregressa che permette la risposta a cui abbiamo assistito durante la pandemia e che per certi versi determina e predetermina quella risposta nel senso che la pandemia avviene in un contesto in cui i settori che già erano diventati dominanti all'interno diciamo nella piramide del capitalismo occidentale quindi il settore biofarmaceutico il settore dell'information technology quindi del grande capitalismo digitale erano già i settori a maggior capitalizzazione nel capitalismo occidentale quindi erano già i settori più potenti erano già settori che avevano acquisito un'influenza spropositata sulle autorità non solo nazionali e anche e appunto poi fa sorridere perché questi erano temi di cui in teoria la sinistra si occupava un tempo nel senso l'idea che ci siano poteri privati in particolare afferenti diciamo a grandi corporation che nel frattempo hanno come dire preso catturato i processi decisionali cioè in teoria era uno dei fondamenti uno dei pilastri dell'analisi critica portata avanti dalla sinistra in questi anni insomma non si sa bene che cosa è successo tutta quell'analisi nei primi mesi del 2020 comunque influenza sempre più spropositata raggiunta tra questi poteri non solo sugli apparati nazionali ma se guardiamo nello specifico al settore della salute pubblica influenza sempre più spropositata sulla principale istituzione di salute pubblica globale ovvero l'organizzazione mondiale della sanità che proprio in virtù di quella trasformazione che dicevo prima ormai è sempre più diciamo di fatto controllata da soggetti privati che ormai addirittura arrivano a a finanziare quote ingenti del budget dell'OMS basti pensare che il diciamo già alla metà degli anni già intorno al 2010 sostanzialmente la Gates Foundation era diventato sostanzialmente il secondo finanziatore dell'OMS non so se rendo l'idea quindi un istituto privato un fondo privato che era già diventato il secondo finanziatore quindi diciamo che forniva più soldi di tutta la maggior parte degli stati del mondo in quel caso lì di tutti gli stati a parte gli Stati Uniti Gates Foundation che ovviamente diciamo non è solo diciamo ispirata ai grandi ideali di Bill Gates ma diciamo questo lo si vede anche dal fatto che la Gates Foundation intrattene rapporti molto stretti con le principali compagnie farmaceutiche che è ingaggiata da anni nel promuovere una risposta come dire tecnocentrica incentrata sui vaccini ai problemi della salute globale quindi anche qui come dire imponendo un cambio di paradigma rispetto a quello che era stato l'approccio dell'OMS per anni che è sempre un approccio per così dire olistico che nasce su idee come dire che già troviamo nella costituzione dell'OMS che in teoria è ancora quella in vigore ve la potete andare a leggere dove c'è scritto che la salute non è semplicemente l'assenza di malattia ma è uno stato di benessere fisico psichico sociale economico quindi c'era la consapevolezza che poi viene anche riaffermata nella dichiarazione di Almata del 78 quindi la salute è qualcosa come dire è qualcosa che ha a che fare innanzitutto appunto e qui si ritorna al concetto di sindemia con aspetti economici sociali con lo sviluppo generale di una società ecco tutto questo negli ultimi anni era stato progressivamente messo da parte a favore di soluzioni invece sempre più appunto tecnocentriche incentrate sui vaccini di cui Gates è il principale sostenitore fautore ma ripeto questa non è che è una teoria cioè il senso lo dice apertamente da anni anzi ne va molto fiero ecco ora non alla luce di tutto questo non mi sembra neanche una coincidenza che la strategia dominante che appunto è stata facciamo i lockdown finché non sono pronti i vaccini e ci tengo a sottolineare che per me è una strategia unica questo è un punto su cui noi torniamo spesso nel libro sono d'accordo sul fatto che l'aspetto sicuramente più diciamo dirompente e più senza precedenti in assoluto siano stati i lockdown nazionali ma per me i lockdown nazionali e poi i vaccinazioni di massa sono due cose che vanno comprese come una strategia unica cioè io penso che anzi la vaccinazione di massa fosse in realtà il reale obiettivo e che in realtà i lockdown servissero a preparare il terreno per poi per le politiche di vaccinazione di massa anche perché appunto come è stato ricordato ci è stato detto fin dall'inizio dobbiamo andare in lockdown perché e dobbiamo rimanere in lockdown finché non saranno pronti i vaccini cioè questa è stata la narrazione fin dall'inizio non è che i vaccini sono stati tirati fuori fin dal primo giorno era non esiste nessuna terapia per affrontare questa pandemia e questo virus quindi dobbiamo andare in lockdown finché non saranno sviluppati i vaccini speriamo presto quindi è evidente che fa parte di una narrazione e a mio avviso anche di una strategia unica ecco e se noi guardiamo a questa strategia nel complesso non mi parla una coincidenza che i due settori che già prima della pandemia erano i due principali settori diciamo all'interno dell'ecosistema del capitalismo occidentale siano poi quelli che hanno beneficiato maggiormente da queste politiche i lockdown sappiamo quanto hanno beneficiato i grandi oligopoli del capitalismo digitale che hanno come dire fatto profitti da capogiro cioè i più grandi profitti che sono mai stati registrati nella storia da qualunque azienda sono stati fatti da aziende come Amazon Facebook Apple nel 2020 2021 più grandi profitti della storia per le ragioni che sappiamo perché a un certo punto tutto si è spostato online insomma abbastanza evidente e nel frattempo che però l'economia reale veniva messa completamente in ginocchio quindi c'è stato un trasferimento di ricchezza enorme uno dei maggiori trasferimenti di ricchezza nel minor diciamo in un lasso di tempo quasi breve della storia nella fase 1 fase 2 vabbè è quasi la palissiano come le strategie di vaccinazione di massa abbiano beneficiato le compagnie che hanno sviluppato i vaccini diciamo apro una parentesi che è tutta la fase di sviluppo e poi di somministrazione dei vaccini che ha dell'incredibile nel senso che ovviamente noi ci siamo la maggior parte della gente si è concentrato sull'aspetto finale cioè su quando sono arrivati per infilargli a tutti i costi la siringa nel braccio ma in realtà come dire anche analizzando le fasi iniziali dello sviluppo dei vaccini è tutto stato assurdo nel senso che questi vaccini sono stati finanziati praticamente dalle autorità pubbliche sostanzialmente dai governi quindi sostanzialmente diciamo eliminando qualunque fattore di rischio per queste aziende quindi non hanno sostanzialmente dovuto investire quasi niente quindi il grosso dei costi enormi che sono stati investiti di sviluppo e di ricerca del vaccino sono stati a carico sostanzialmente del pubblico che nel frattempo ha attivato delle procedure di autorizzazione dei vaccini emergenziali assolutamente senza precedenti con tempi diciamo di approvazione che mai si erano visti nella storia nel frattempo però stava firmando in segreto dei contratti con queste aziende per sollevare le aziende da qualunque responsabilità di qualunque tipo derivante da eventuali effetti avversi ma anche diciamo da qualunque altra cosa quindi sostanzialmente offrendo un'immunità totale a queste aziende e mentre si preparava diciamo a far partire la macchina di vaccinazione di massa permetteva però nel momento in cui questi vaccini finalmente erano stati sviluppati anche qua diciamo con tempistiche abbastanza incredibili ma non ci addentriamo in questo aspetto perché altrimenti non se ne esce più permettono alle aziende di mantenere il brevetto sui vaccini sviluppati cioè vaccini sviluppati con soldi pubblici poi si permette ad aziende come Pfizer, Moderna BioNTech di mantenere al 100% la proprietà dei vaccini e non solo di stabilire il prezzo a cui le aziende venderanno ai governi i vaccini che i governi hanno finanziato e sviluppato cioè nel senso è tutta una vicenda qui siamo altro che shock economy come era il libro della Klein cioè un'altra diciamo tendenzialmente assente in tutta questa vicenda nonostante abbia dedicato parlo di nomi Klein buona parte della sua produzione critica proprio a evidenziare la natura di questi processi di corruzione assente tendenzialmente anzi poi ho visto che ha scritto delle cose contro i tracker canadesi dicendo sono tutti fascisti insomma il grande contributo di nomi Klein in tutta questa vicenda più o meno si riassume in questo un po' di padri mercato si decisamente quasi tutti uomini i camionisti sembra evidente qui è tutta la vicenda che è come dire tanto si è scritto sulla risposta data per esempio alla crisi finanziaria si parlava di come dire socializzazione dei costi e privatizzazione dei profitti a favore dei salvataggi delle grandi banche in seguito alla crisi del 2008 qua siamo di fronte a una socializzazione dei costi a una privatizzazione dei profitti che fa sembrare la vicenda del salvataggio delle banche una roba diciamo veramente di poco conto se guardiamo poi ai profitti che hanno successivamente fatto queste aziende anche qua mi sembra che si parla di 100 miliardi di profitto credo nel 2022 per la sola Pfizer sono cifre che poi spesso non fanno tanto effetto perché uno non riesce neanche a comprendere la reale identità di queste cifre ma poi parliamo diciamo di insomma che per arrivare a quelle leggevo una descrizione che era abbastanza efficace l'altro giorno insomma che per arrivare a 100 miliardi di dollari dovessi guadagnare 10.000 dollari al mese ogni mese dai tempi delle piramidi fino a oggi insomma siamo nell'ordine di queste cifre qua che forse uno già si rende un po' più conto di che cosa di che cosa stiamo parlando e poi appunto dopo aver allestito tutto questo dopo aver sviluppato sostanzialmente sviluppato attraverso questa macchina pubblica dei vaccini appunto poi non solo si permette alle aziende di dire di stabilire il prezzo e poi si decide di vaccinare sostanzialmente tutta la popolazione mondiale perché questo è stato l'obiettivo dichiarato fin dall'inizio dalla stessa OMS che si limitava a fare da eco a Bill Gates che già all'inizio della pandemia diceva ne usciremo solo quando sarà vaccinata tutta la popolazione mondiale e questa diventa la strategia ufficiale ad un certo punto vaccinazione globale di massa e appunto poi ci sono tante possibili spiegazioni su perché questo sia stato fatto io ho un approccio da vecchio materialista per cui vedo un elemento preponderante nella questione del profitto e del potere poi ci saranno state io penso che le aziende private abbiano svolto un ruolo determinante nell'imposizione e nell'implementazione di queste politiche queste politiche che hanno determinato ovviamente in primis un ulteriore accrescimento ripeto senza precedenti di potere e di capitale dei settori che erano già i principali settori i settori più influenti del capitalismo occidentale quindi un approfondimento una radicalizzazione di questo processo di oligarchizzazione del capitalismo occidentale che va come dire considerato a fronte poi di un ulteriore peggioramento invece delle condizioni materiali della stragrande maggioranza ora delle persone i dati da questo punto di vista sono chiari cioè le politiche di lockdown hanno provocato una riduzione della quota salari a livello globale un crollo un aumento della disoccupazione praticamente ovunque un aumento drastico drammatico della povertà soprattutto nei paesi in via di sviluppo questo è un aspetto su cui sono fiero di esserci concentrati nel libro perché è un aspetto su cui spesso si tende a sottacere noi giustamente le cittadine italiane occidentali abbiamo teso a concentrarci sugli effetti del lockdown su di noi sulle nostre famiglie e questo è ovvio e più in generale sull'occidente ma spesso ci dimentichiamo che le stesse politiche sono state imposte anche in paesi in via di sviluppo con conseguenze oggettivamente peggiori infinitamente peggiori di quelle che abbiamo registrato in occidente nel senso che parliamo di paesi poveri paesi in via di sviluppo che hanno come dire la cui economia è un'economia sostanzialmente informale l'economia informale vuol dire un'economia in cui tu devi uscire di casa per vendere cose in mercatini allestiti alla bene e meglio cioè come dire parliamo di questo parliamo quindi è chiaro che se tu prendi società di questo tipo qua e chiudi tutti in casa in paesi appunto paesi poveri in cui poi non sono state allestite forme di sostegno e reddito semplicemente perché non c'erano le condizioni tu stai condannando alla fame milioni di persone che infatti è quello che è successo ora le statistiche variano ma insomma secondo le statistiche della banca mondiale parliamo di circa 100 milioni di persone in più che sono cadute in che sono finite in condizioni di povertà estrema in questi in questi anni la maggior parte dei quali in India che appunto meriterebbe una una trattazione a parte per le conseguenze devastanti che hanno avuto i lockdown in quel paese comunque insomma diciamo tutti sono d'accordo sul fatto che in due anni si sono persi almeno 10-15 anni di progresso socio-economico fatto nei paesi in via di sviluppo e bisogna sottolineare che questa è stata una conseguenza non del virus o della pandemia ma della risposta politica alla pandemia ovvero dei lockdown quindi queste misure presentateci come misure che servivano che erano misure umane che imponevano al centro la salvaguardia della persona la collettività in realtà hanno condotto diciamo direttamente alla morte sicuramente milioni di persone nei paesi più poveri del mondo su questo non ci sono dubbi diciamo lo dicono tutte le statistiche e questo era facilmente immaginabile eppure tutti i terzo mondisti di casa nostra anche qua tutto assenti persone che appunto ce l'hanno nominata per anni sui poveri sui poveri africani sui poveri del mondo a un certo punto di fronte a politiche che non era difficile intuire avrebbero avuto queste conseguenze tant'è che infatti tutte le principali agenzie internazionali dall'UNICEF in giù avevano avvertito che questa roba qua rischiava di avere conseguenze devastanti niente sono rimasti silenti anche di fronte anche di fronte a questo quindi dal punto di vista economico appunto un approfondimento di questi processi di aumento delle disuguaglianze che erano in corso d'anni una letalità bassissima tra l'altro era altrettanto facile immaginare che il covid non rappresentava quasi una minaccia di nessun tipo in paesi in cui l'età mediana è di circa 19 anni se guardiamo all'Africa e in cui il clima è un clima appunto estremamente caldo estremamente secco che sappiamo non essere proprio diciamo il clima ideale per le influenze quindi anche questo è un altro aspetto assurdo ma invece l'unica cosa che la sinistra riuscì a dire era dobbiamo vaccinare anche tutti gli africani come stiamo vaccinando anche noi noi ricchi fortunati occidentali quindi caliamo un velo pietoso anche su questo e poi vabbè sulle conseguenze appunto più strettamente democratiche anche qui l'abbiamo già detto insomma mi sembra evidente che tutto quello che abbiamo detto punta nella direzione di un arretramento senza precedenti diciamo delle garanzie democratiche col ricorso a politiche mai viste prima nella storia certo una menzione a parte merita il green pass cioè l'idea uno strumento in cui i diritti costituzionali più basilari vengono subordinati sostanzialmente a un trattamento sanitario obbligatorio c'è una cosa che non si erano mai viste nella storia ma così come obblighi vaccinali di questo tipo non si erano mai visti nella storia mai si era visto la maggior parte degli obblighi vaccinali fino ad adesso hanno riguardato i bambini per malattie molto serie che minacciano seriamente i bambini e si sono limitati sostanzialmente alle scuole poi anche lì diciamo se ne può discutere ma comunque possiamo tutti essere d'accordo e con ovviamente diciamo conseguenze in termini di non vaccinazione neanche lontanamente paragonabile a quello che non vaccinarsi ha comportato negli anni della pandemia quindi anche qua siamo di fronte a delle imposizioni assolutamente senza precedenti ora molto di questo appunto sembra essere stato messo sembra essere finito però appunto io sono assolutamente d'accordo con Andrea sul fatto che questo non è finito perché quello che quello che abbiamo imparato nella pandemia è che tutto ciò che noi associamo alla democrazia cioè lo stato di diritto la costituzione le leggi la separazione dei poteri cioè tutto questo può essere spazzato via dal giorno alla notte dal giorno alla notte in nome di un'emergenza un'emergenza che può essere di qualunque natura in questo caso qua è stata come dire una presunta emergenza sanitaria potrebbe essere un'emergenza militare potrebbe essere un'emergenza climatica un domani cioè non è come dire di emergenze anche reali cioè non è che serve per forza inventarle è pieno là fuori cioè il mondo è un mondo in cui ci sono tante cose che non vanno le minacce potenziali sono tante per cui non è che uno deve andare troppo lontano per trovare un'eventuale come dire minaccia da chiamare in causa per poter reimplementare uno stato di emergenza quindi secondo me siamo entrati in uno stato di eccezione permanente cioè il fatto che alcune delle misure siano state sospese è la possibilità di poter reimplementare lo stato di emergenza in qualunque momento che determina lo stato di eccezione permanente cioè se in qualunque momento loro possono rifarlo ed evidentemente possono rifarlo perché l'hanno fatto una volta tra l'altro con livelli di consenso e di accettazione anche piuttosto diffusi non c'è assolutamente nessun motivo per cui non possano non possano rifarlo un'altra volta e in parte come ha detto anche Sara il paradigma del covid lo abbiamo rivisto poi riapplicato in forme non molto diverse soprattutto diciamo per quanto riguarda la gestione dell'informazione e delle voci critiche rispetto alla guerra alla guerra in Ucraina diciamo cioè stesso approccio totalmente militarizzato al dibattito pubblico cioè questo è un altro aspetto assolutamente senza precedenti ma militarizzato cioè non è una metafora nel senso noi sappiamo che gli apparati di sicurezza dei principali governi occidentali erano direttamente coinvolti nella risposta al covid questo sta emergendo anche dai lockdown files ma in realtà era una cosa che già si sapevano cioè gli apparati di sicurezza gli apparati di intelligence hanno giocato un ruolo centrale nella risposta nella gestione della pandemia nel controllo dell'informazione dove a un certo punto addirittura è stato creato un dipartimento apposito in Inghilterra sostanzialmente per andare dietro per perseguire diciamo gli scettici del lockdown e poi dei vaccini che sostanzialmente venivano trattati quasi alla stregua di nemici di nemici dello Stato quindi questa è la situazione e appunto noi in questa situazione ci siamo ancora era evidente che poi molte delle misure sarebbero state sospese o eliminate cioè era evidente nessuno immaginava che i lockdowns sarebbero durati in eterno questo è ovvio però è servito a inaugurare un nuovo paradigma e noi dentro a quel paradigma ci siamo ci siamo ci siamo fino alla testa e questo è qualcosa di cui dobbiamo assolutamente tener conto grazie grazie mille Thomas per il tuo intervento mi pare che si è passato la palla direttamente a Andrea per quanto riguarda appunto la gestione poi di migliaia di informazioni siamo tutti diciamo non è stato dato molto risalto ma penso quasi tutti noi abbiamo ci ricordiamo quando per esempio Mario Monti andò in televisione a dire che c'è bisogno di un'informazione di guerra per la gestione del virus effettivamente forse questo è proprio uno degli elementi che resterà insomma almeno nel futuro prossimo perlomeno e che già forse stiamo avendo qualche riscontro per esempio in occasione di qualche pestaggio davanti alle scuole per esempio come Firenze dove sui media vengono raccontati come cose che capitano tra ragazzi insomma per cui punto c'è un po' questa cosa forse che rimarrà non è finita e lascio la parola Andrea sì guarda faccio proprio due battute brevi così magari discutiamo tutti insieme sì non c'è il minimo dubbio e quello che ha detto Monti era faceva perfino sorridere per l'apparente ingenuità con cui stava dicendo una cosa di cui tutti noi ci eravamo assolutamente accorti però questo dice anche molto di che cosa significa un momento in cui prende corpo una specie di Mostro di Moloch di Morte Nera che è questo nuovo incontro tra poteri statali e poteri delle multinazionali in cui come dire sono d'accordo con il punto è quello che diceva Thomas noi sappiamo quando mi dicevano tu fai il cospirazionista allora adesso secondo te cosa succede la mia risposta poi ci ho pensato la mia risposta è diventata diversa cioè la mia risposta è diventata io non sto dicendo quello che succederà il problema è proprio che io non so cosa succederà cioè che io non sono più in grado di escludere che succedano delle cose che fino all'altro ieri mattina erano assolutamente impensabili ora pensare che questo regime finisca secondo me è molto ingenuo a livello teorico come studioso anch'io penso che la nozione di eccezione sia quella che spiega meglio tutto questo però adesso sarebbe se poi vi interessa lo facciamo sarebbe un discorso molto teorico credo che siamo sicuramente dentro a qualcosa di nuovo sui media è fuori discussione ora il telegraph sta facendo sta facendo il suo mestiere decorosamente ma in un mondo normale nel momento in cui viene fuori che quelli che hanno deciso il lockdown delle mascherine e la chiusura delle scuole lo facevano intenzionalmente ti pigliavano pure per il culo cioè dovrebbe essere una roba che frana cioè frano tutti i palazzi delle istituzioni d'Europa d'Occidente del Regno Unito del Commonwealth e non succede assolutamente nulla questo a me fa paura quello che avete detto gli scienziati che si sono accodati tu dicevi diverse forze che si sono messe insieme è proprio il fatto che può succedere qualsiasi cosa e il pensiero collettivo è maledetto nel senso che giustifica giustifica qualsiasi cosa perfino tra gli scienziati non vi ho parlato dei sociologi ma io a un certo punto ho chiamato questo è un caso che ho già citato la presidentessa dell'Associazione Italiana di Sociologia io non sono iscritto ma comunque è la presidentessa dell'Associazione Italiana di Sociologia e le ho detto scusa ha detto il governo che tu puoi incontrare quella persona ma non quella ma forse come sociologi vi ricordate i congiunti gli affetti stabili quella roba del secondo governo Conte ora su dove siamo veramente le ultime parole secondo me non è finita secondo me c'è una cosa su cui forse non siamo del tutto d'accordo anche se poi a un certo punto del libro il dubbio vi viene io su quale sia lo strumento e quale sia il fine tra vaccino e lascia passare ancora non l'ho capito sinceramente nel senso che mi sembrano due cose che sono tutte e due molto molto importanti ora uno dice il Green Pass l'infrastruttura del Green Pass sta lì vi dico due cose in autunno c'è stato il G20 in Indonesia dicevo i due episodi i due fatti che ho anticipato prima abbiamo avuto anche qui una bellissima copertura tu parlavi di informazione la copertura della stampa degli armi è stata straordinaria perché si è preoccupata moltissimo del fatto che Giorgia Meloni che era di fatto al grande debutto internazionale appena nominata capo del governo c'è andata la figlia che poi tra l'altro ora abbiamo scoperto che sta bambina non è neanche in età per andare a scuola ha tipo 4 o 5 anni poi accusare dopo che hai chiuso le scuole per due anni non dovresti prendere l'argomento cioè questa si è portata la figlia si è parlata ora il problema è che mentre la stampa parlava di questo il G20 poi l'hanno fatto non sappiamo cosa abbiano deciso però ci sono sempre dei comunicati stampa nel caso dell'ultimo G20 il comunicato stampa è noto come carta di Bali che trovate in rete con il vostro motore di ricerca preferito vi chiedo di prenderlo e scorrere fino al punto 23 in cui c'è scritto placido sereno al punto 23 della carta di Bali che i governi si impegnano a mettere in piedi per ragione di profilassi e poi bla 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 a mettere in piedi un passaporto vaccinale sull'esempio il covid certificate poi ti danno a noi sono tre anni che noi portiamo delle cose oggettive e ti dicono ah tu sei un complottista allora Bill Gates e non c'è stato modo con quelli di sinistra di parlare guardate io non sto dicendo che Bill Gates ha inventato il virus poi magari verrà fuori che è così io sto dicendo ma ma questo qui è che non ha nessuna competenza di ordine cioè posso posso porre il problema del per che cosa c'entri Bill Gates con l'OMS posso porre il problema che se uno degli uomini più ricchi del mondo ha un'influenza del genere su organizzazioni governative che decidono sulla salita pubblica cioè posso dire che è un problema oppure tu sei di quelli del 5G e questa è l'informazione che viene fatta quindi lì c'è il passaporto vaccinale nel frattempo l'OMS sta discutendo il piano generale per le pandemie che si preannuncia una cosa insomma che somiglia molto a cose che hanno circolato negli ambienti del World Economic Forum e che sembra contenere delle cose che sono piuttosto sostanzialmente gli stati che se non sbaglio sono 194 affiliati all'OMS su circa un po' più di 200 riconosciuti dalle Nazioni Unite cedono di fatto la loro sovranità in materia di profilassi internazionale all'OMS è chiaro che siamo queste due cose messe insieme e fanno pensare che non ci sarà un'altra stagione come quella del Covid io credo che un lockdown come quello di marzo maggio 2020 non lo puoi più fare perché non lo regge più nessuno e questo finisco su questo io non ho la minima idea di quale sia la via d'uscita da tutto questo una cosa lo so che c'è sicuramente una via d'uscita elementare quella proprio pratica che è quella forma di disobbedenza primaria del runner di Pescara quello sì cioè a un certo punto c'è il dovere morale di ognuno di non rispettare regole che non rispettano la dignità dell'essere umano e guardate che funziona perché io ho avuto in cui abbiamo tutti abbiamo sentito conoscenti o colleghi soprattutto nell'Europa dell'Est e nei Balcani dove non è che non ci hanno prova da mettere quelle regole è che a semplicità la gente si è messa a ride e vi faccio un esempio molto importante il coprifuoco è materia come le mascherine all'aperto come la nuova chiusura delle scuole sempre di quell'autunno 2020 per le famose varianti che si stavano giocavano tra di loro a tirar fuori la variante e il coprifuoco che è stato messo è durato otto mesi il precedente nella storia italiana monarchica perché nella storia della Repubblica non c'è malgrado due pandemie esattamente come questa 57-58 e 68-69 il precedente è quello di Badoglio che all'alba del giorno successivo al 25 luglio mette un coprifuoco che è durato meno di questo però c'è una morale importantissima secondo me nel coprifuoco all'inizio è un inferno non sapete quante volte mi ha fermato la polizia i bar che chiudevano alle 6 perfetto a marzo il coprifuoco non esiste più perché la gente si è rotta i coglioni perché la gente vuole uscire di casa perché l'aria è più calda perché c'è più luce fino a sera poi esattamente con quel giochino che noi non possiamo vedere perché non abbiamo le chat di whatsapp si saranno detti tra di loro ma che facciamo l'aboliamo ma no dai lo spostiamo ai 11 così sembra una cosa più scientifica poi è stato spostato alle 11 e poi è arrivato fino al giugno del 2021 col coprifuoco a mezzanotte ma secondo me la vera grande morale da imparare è a marzo il coprifuoco è finito perché non lo rispettava nessuno c'era più niente da fare e tra l'altro hanno usato scusate le mie ultime parole si sono permessi di bestemmiare su un termine che per un sociologo è assolutamente sacro che è quello di Movida che ha perché tu vuoi il diritto all'aperitivo intanto sì io voglio il diritto all'aperitivo e saranno pure a fare i miei tra l'altro no ma perché la Movida è stata esattamente quella roba lì è stata la più bella rivoluzione civile in cui nessuno non è che non hanno sparato non hanno manco preso un'arma cioè una rivoluzione contro una dittatura è venita dal fatto ci avete rotto noi vogliamo uscire di casa la sera cioè più bello di così non c'è niente io non vedo grosse soluzioni a livello politico sono interessato a soluzioni a livello filosofico cioè ci vuole un pezziero veramente molto forte che io non sono in grado di produrre perché non è il mio a livello pratico secondo me la soluzione è proprio andare sotto traccia cerco opri fuoco ciao questo e adesso c'è un po' di spazio io intanto ringrazio tutte e tre è stato molto interessante anche molto pesante ripercorrere questi tre anni personalmente l'ho vissuta così soprattutto per chi come noi fin dall'inizio ha espresso dubbi pensieri critici su questo ripercorrere oggi è anche abbastanza faticoso parto dall'ultima considerazione di Andrea Miconi sull'insegnamento rispetto a proprio al coprifuoco che è stata una delle misure più insensate di questi tre anni cioè un coprifuoco che nel caso della guerra ha un evidente significato tattico cioè evitare di dare dei segnali per l'aviazione e l'invasore nel caso di un virus il coprifuoco è assolutamente insensato ma c'è un insegnamento ulteriore che quel frangente o meglio quella misura ci deve ricordare continuamente è come è stato introdotto il coprifuoco e le misure tra la fine del 2020 a dicembre del 2020 e l'inizio del 2021 e che ha a che fare proprio con l'informazione che Andrea ha ben studiato in questi tre anni quelle misure prima di Natale del 2020 se vi ricordate anche a proposito dei navigli e così via cioè di quelle immagini che venivano diffuse sulle persone che osavano uscire di casa e divertirsi le misure furono reintrodotte a dicembre per una fotografia scattata su via del corso io quel pomeriggio ero a passeggio su via del corso sarà stato forse il 18 dicembre o qualcosa del genere e Massimo Giannini direttore della stampa riprende quella foto chiaramente schiacciata dando una prospettiva di folla incredibile ma anche se fosse stato il problema twittando buon covid a tutti da quel tweet la politica ha tratto la conclusione di ulteriori restrizioni tra cui anche il coprefuoco tu dicevi in una domanda come si è passati dalla Milano non si ferma alle foto anche lì dei media proprio relativa ai navigli quindi il paradosso assoluto mi hai fatto ricordare per ricordare il paradosso assoluto Milano non si ferma l'aperitivo e la chiusa contro chi osava divertirsi ai navigli come si è passati e qui riprendo quello che diceva Thomas all'inizio e prometto di leggere il libro il prima possibile perché mi sembra molto interessante come si è passati alla diffusione dell'unica misura possibile cioè il lockdown io ricordo quando mi capita di parlare in pubblico di queste cose da geografo politico osservo come non solo ci sia stata una dimensione di riduzione degli spazi di vita quotidiani che corrispondano a una riduzione di libertà d'altronde il prigioniere con il quale ha degli spazi molto ristretti ma come ci sia anche una dimensione geopolitica che tu hai rimarcato nel tuo intervento ma io ricordo sempre anche lì la commistione tra informazione e politica quello che avvenne proprio tra il febbraio e il marzo a proposito delle notizie o presunte tali che arrivavano dalla Cina e ho ritagliato gli articoli di giornale ed erano innumere che forse molti di voi non se ne ricorderanno infatti di solito la reazione è un po' di stupore ma anche di memoria appunto di affondare nella memoria personale gli articoli erano le strade di Wuhan vuote in questa immagine spettrale che normalizza l'idea del lockdown c'è una normalizzazione che avviene a mezzo stampa ed è una stampa incessante che ci parla di Wuhan completamente vuota isolata vi ricordate i cittadini di Wuhan cercate di ricordare con la memoria i cittadini di Wuhan affacciati alle finestre che cantano l'inno nazionale e dicono ce la faremo ho i ritagli di giornale con i modi che noi abbiamo acquisito a marzo pari pari non solo oltre a queste immagini che arrivavano dalla Cina a marzo del 2020 quando vengono introdotte le misure restrittive esattamente in coincidenza delle misure restrittive appena prima arriva la truppe di medici cinesi arriva in Lombardia e allo Spallanzani di Roma in Lombardia viene dato loro il parco è una cosa assolutamente inedita e simbolicamente fortissima il governatore della Lombardia lascia il microfono alla truppe di medici cinesi così come allo Spallanzani arrivano e danno le pagelle alle politiche adottate dell'Italia e riprendo sempre gli articoli in giornale in cui devono state facendo bene state chiudendo ma non state chiudendo abbastanza dovete chiudere di più e noi sulla scorta di queste pagelle date da due medici cinesi adottiamo le politiche esattamente sul modello cinese oltretutto tra i video che venivano diffusi nei media nazionali c'erano anche i video alla luce dei fatti assurdi dei cinesi che crollavano alle fermate dell'autobus ve li ricordate? crollavano come come frutti davvero crollavano a terra ovviamente non è una sintomatologia derivante dal virus dopodiché riprendo quello che diceva Sara scusate se faccio qualche considerazione ma davvero le riflessioni sono tantissime e Sara giustamente diceva stiamo assistendo dal passaggio da un'emergenza all'altra dall'emergenza e qui è molto interessante anche quello che ha ben analizzato Andrea cioè dallo stato di emergenza per il covid che ha oltrepassato la durata limite prevista dall'elte italiana dei due anni costituendo nei fatti uno stato di eccezione a tutti gli effetti siamo passati allo stato di emergenza dichiarato per la guerra in Ukraine c'è il terzo tema che in realtà si staglia all'orizzonte chiarissimo è quello dell'emergenza climatica ambientale o che dir si voglia che già da diversi anni viene come dire diffusa come tale che io riscontro spesso nei miei studenti suscita addirittura un'ansia un'angoscia superiore alla possibilità di una degenerazione del conflitto nucleare cioè l'ansia che i ventenni di oggi hanno relativamente all'ambiente al clima è assai superiore rispetto all'ansia di una eventuale guerra atonica e c'è un libro interessante che analizza come il libro è di un politologo brevissimo dell'Università di Milano Alessandro Colombo il libro è Il governo mondiale dell'emergenza è uscito a dicembre del 2022 è un libro straordinario in cui lui sulla scorta di studi che fa da anni sulla globalizzazione analizza come la globalizzazione corrisponda all'emergere e al diffondersi del concetto di crisi continuamente lo abbiamo visto con il 2001 con il terrorismo con la crisi economica e tutte le misure emergenziali che sono derivate con l'emergenza stato islamico l'emergenza migrazioni è un incessante di panazzi di crisi continua che comporta l'adozione di misure emergenziali che restringono il campo di libertà dei cittadini e questo è evidentissimo e qui ragionavo su un altro fatto sulla base di quello che dicevi Sara cioè l'emergenza continua corrisponde non solo a questa restrizione nei fatti che abbiamo vissuto in maniera clamorosa durante il covid ma anche al dominio dell'insensatezza totale cioè tutte le misure assurde di cui pure in qualche maniera avete evocato l'assurdità vale a dire i semafori pedonali a piazza del popolo noi a Roma avevamo i semafori pedonali per cui le direzioni in marcia per i cittadini avevano l'esibizione dell'autocertificazione un assurdo evidente che faceva ribrezzo anche a chi aveva vissuto sotto l'Unione Sovietica io ho parlato con dei preti polacchi e mi dicevano noi questa umiliazione costante non l'abbiamo mai subita al bar entravi dentro al bar dovevi indossare la mascherina facevi un metro arrivavi al banco e la potevi togliere io quando facevo osservare al barista con insensatezza di questa cosa mi diceva no non si discute oppure la legge secondo la quale al bar seduto non potevi stare in piedi sì le mascherine all'aperto io con Andrea siamo stati letteralmente aggrediti da agenti perché avevamo abbassato la mascherina a piazza del popolo in una piazza del popolo vuota dopo una manifestazione e riflettevo su questo sulla prima emergenza di cui non solo parla Alessandro Colombo del suo libro ma di cui parla Agamben a proposito dello stato di eccezione cioè l'emergenza derivante dagli attacchi alle torri gemelle e lui fa proprio l'esempio delle misure che vengono adottate negli aeroporti noi riflettiamoci esattamente ciò che avviene negli aeroporti cioè ci fanno togliere l'acqua è una misura che non ha alcun senso logico togliere l'acqua o il barattolino sopra i 100 millilitri non ha il consenso logico eppure tu ti devi sottoporre a una misura assolutamente illogica insensata per via che soprattutto dopo 20 anni sta ancora lì ovviamente sta ancora lì così come riflettevo anche su un'altra misura paradossale che a Roma viviamo da quasi 30 anni credo cioè le domeniche cosiddette ecologiche che non hanno alcuna base scientifica logico-scientifica ma vengono imposte da 30 anni senza avere alcun effetto reale sulla riduzione delle polveri sottili e quant'altro ultimo passaggio sulla condizione dei ragazzi e su quell'articolo che tu citavi Sara e che diceva eh lockdown hanno fatto addirittura bene ai nostri ragazzi allora intanto c'è un dato esperienziale nel senso che tutti noi che abbiamo a che fare con gli studenti io noto anche in chi diciamo si dichiarava non contrario alle misure delle restrizioni della data ma tutti noi abbiamo osservato in questi anni una riduzione del livello di attenzione di capacità interdettiva dei nostri studenti purtroppo questo è abbastanza evidente ma poi è emerso un dato la scorsa settimana che ci parla di circa 50.000 potenziali ikikomori in Italia cioè quel fenomeno sociale che riguardava soltanto il Giappone è enormemente scoppiato nel nostro contesto era lontanissimo e purtroppo l'amara considerazione che faccio permettetemi una come dire una piccola nota autoreferenziale ma in quel mio libro intitolato proprio Spazi di eccezione in cui parlavo delle misure politiche adottate per la pandemia e di quanto avessero influito sui nostri spazi quotidiani un capitolo lo dedicavo in maniera un po' pessimistica credevo inizialmente d'altronde era la fine del 2020 lo intitolavo moriremo ikikomori col punto interrogativo per alcuni mesi mi sono detto forse troppo pessimista oggi purtroppo è costato che è una realtà dei fatti per cui grazie per avermi ricordato molte cose incredibili che abbiamo missuto e ci berremo sopra dopo io sono d'accordo su tutto dico solo una cosa sulla sull'assumida delle regole è chiaro che molte erano controproducenti nel senso io ci do un esempio così alleggerisco alla fermata la fermata ottaviano della linea della metropolitana di Roma che è dove abitano i miei genitori sostanzialmente ebbi una discussione perché a certo punto stavo cercando uscite ed era chiusa allora sono andato da questi era tutto militarizzato c'era la protezione e mi hanno risposto solo a regole covid ho detto ma scusate se il problema sono gli assembramenti ma dovreste sfondare il muro e aprire le uscite a me al liceo hanno insegnato che c'è un numeratore e un denominatore il coprifuoco oltre a far sì che i ragazzi si siano visti dentro casa anziché per strada ovviamente ma tu te rendi conto del fatto che se non vuoi mettere insieme troppa gente gli orari di negozio li devi annungare cazzo ma un bambino scusate uno studente anche un po' scemo delle medie non capisce sta cosa no? cioè non si devono incontrare le persone quindi è tutto aperto sempre quindi chiudeva i sei quindi ci vanno tutti insieme però io credo questo è un po' Foucault che non è un autore che io ho mai usato particolarmente con tutto rispetto ovviamente la questione è che la dimensione grottesca del potere è la conferma matura della forza questo è chiarissimo nelle lezioni del Collegio della Francia di Foucault cioè il potere è talmente potere che anche di fronte a una cosa del genere è come la storia del dittatore Woody Allen che dice devi mettere la biancheria sopra i jeans e tu te la metti esattamente penso che sia proprio quello il re è nudo sì sì c'è il re è nudo sì chiaramente io non d'accordo tutto quello che hai detto sulla questione diciamo di quelle prime settimane sì chiaramente ci sono alcuni aspetti incredibili che appunto secondo me puntano chiaramente nella direzione di una strategia i video dei signori che cadono a Fouan quello non è che può essere una cosa che qualcuno ci ride sopra dice vabbè no bisogna capire chi la qui sono i video che sono stati prodotti innanzitutto cioè girati filmati chiaramente recitati e poi qualcuno li ha diffusi in internet evidentemente con lo scopo di scatenare il terrore nella popolazione cioè non c'è altra spiegazione e quindi io quando avrò il tempo qualcuno dovrebbe dedicare una ricerca scientifica sull'origine di quei video perché è un punto è uno snodo fondamentale non è che cioè quei video non è che nasco perché un burlone si mette a fare quei video cioè è evidente quello è ci sono il prodotto di un'operazione di propaganda che tra l'altro è riuscito perché quei video vengono ripresi da tutta la stampa occidentale finiscono in televisione vengono ripresi dai telegiornali vengono ripresi da tutti i principali io noi nel libro citiamo appunto visto che si rivolge a un pubblico anglosassone un articolo del Guardian che ne parla come la dimostrazione della pericolosità del covid e appunto poi tutti gli articoli che non è che poi ricevono una smentita quando poi questi fatti semplicemente però appunto ci sono alcuni elementi in percorso secondo me quando uno mette insieme i puntini il quadro emerge abbastanza chiaro ma ci sono dei singoli puntini che richiedono di essere analizzati con molto più dettaglio di quanto noi siamo riusciti a fare nel libro perché che puntano chiaramente nella direzione dell'operazione come dire preparata a tavolino cioè non è difficile spiegare alcuni aspetti di questa vicenda altrimenti così come secondo me non è del tutto un caso che di tutti i paesi che potevano fare che potevano essere i primi a inaugurare l'Opteo nazionale questo primato spetta all'Italia diciamo nel senso che se uno volesse pensare male e volesse se ci fosse stata una regia non sto dicendo che ci fosse e ci fosse stato il bisogno di individuare un paese a cui far fare per primo queste politiche perché serviva un precedente perché comunque era ancora diffusa dopo l'implementazione del lockdown in V1 e l'idea che comunque queste misure non si sarebbero mai potute imporre in regimi democratici liberali e così via se uno accetta l'idea che serviva un paese che facesse da esempio insomma non è assurdo pensare che l'Italia potesse essere un candidato ideale paese notoriamente diciamo con una classe politica particolarmente diciamo prona alle influenze straniere che ormai da tempo ha accettato il ruolo di una classe dirigente che ormai accetta che il loro ruolo è quello di essere esecutori di decisioni prese altrove cioè questo ormai è un concetto che è stato interiorizzato dalle classe dirigenti italiane almeno da 30 anni quindi una classe istituzione un ventre molle che sicuramente si prestava più di altri paesi ad attuare come dire misure assolutamente senza precedenti e quindi appunto il fatto che poi e anche lì ci sono studi sul fatto che a un certo punto c'è una campagna di tweet su Juan che però sono tweet in lingua italiana chiaramente rivolte a un pubblico quindi c'è una campagna di propaganda che non è solo rivolta all'occidente in generale ma a un certo punto è proprio rivolta all'Italia in particolare poi ci sono anche aspetti diciamo ancora più drammatici cioè il picco della mortalità in eccesso che si registra in Lombardia tra marzo e aprile che è sostanzialmente un picco improvviso che arriva al mille per cento rispetto diciamo alla normalità quella è una roba che non si può spiegare e questo penso lo posso confermare anche Sara non si può spiegare facilmente semplicemente sulla base di come dire normali fattori epidemiologici cioè non mi risulta che ci siano tanti casi nella storia di picchi improvvisi del mille per cento di mortalità in eccesso che si registrano nel giro di pochissimo tempo quindi anche lì bisognerebbe capire come le morti questo enorme numero di morti che si è registrato in un lasso di tempo molto breve nel nord Italia e bisognerebbe fare uno studio approfondito per capire le cause reali di quelle morti perché insomma è probabile quantomeno che fattori diciamo non direttamente relativi al virus abbiano influito cioè quindi che anche la risposta politica come dire ma anche senza andare anche senza come dire prendere in considerazione una strategia generale non è difficile immaginare che seminare il panico nella popolazione vuol dire che poi la gente non si va a far curare perché ha paura di prendere il virus ma anche su questo ormai sono stati fatti studi sul fatto che come dire i danni alla salute generale quindi anche e anche l'aumento quindi tutta una serie di patologie e di morti per patologie non covid durante la pandemia sono anche solo riconducibili al panico che si è scatenato in quei giorni però diciamo sono tutti aspetti su cui bisognerebbe indagare e su cui in realtà dovrebbe muoversi la magistratura che invece mi pare che stia indagando solo sul fatto che il lockdown si è fatto troppo tardi quindi lasciamo perdere insomma e sulla questione invece dell'uso dell'emergenza come strumento di governance è un tema che mi interessa tantissimo infatti mi procurerò questo libro di Colombo che non conoscevo mi limito a dire che anche qua il tema cioè da un lato c'erano i piani i piani pandemic ufficiali i piani pandemic ufficiali dei governi che erano tendenzialmente diciamo come dire determinati da quello che era il consenso anche in ambito scientifico su come si gestiscono le pandemie influenzali che appunto non pretevano di sicuro tutto quello che poi abbiamo visto ma nel frattempo come dire si era andato sviluppando come dire un complesso pandemico negli anni precedenti appunto di cui facevano parte le grandi compagnie farmaceutiche grandi compagnie nel settore delle tecnologie biometriche e poi che erano a loro volta appunto come dicevo prima che intrattenevano un legame molto stretti con le istituzioni di salute pubblica a livello mondiale quindi l'OMS ma anche a livello nazionale e così via e poi chiaramente istituti accademici università e così via che da tempo come dire simulavano scenari pandemici molto simili a quelli che poi si sono verificati anche qua diciamo bisogna sempre capire il confine tra la preparazione per un evento e secondo me c'è un confine piuttosto labile ma è semplicemente nella misura in cui nel momento in cui tu permetti la creazione di un complesso esattamente come il complesso militare industriale crea anche una domanda quindi evidentemente così come il complesso militare industriale ha bisogno delle guerre per sopravvivere nel momento in cui tu permetti il consolidamento di un complesso che potremmo definire pandemico perché nascono tutta una serie di interessi relativi a un'eventuale gestione di una pandemia ecco se no il confine tra come dire la preparazione e pianificazione diventa sempre più sempre più sfumato però ci sono delle cose curiose c'è un uno di queste simulazioni che è stata fatta dal dalla Rockefeller Foundation nel 2010 in cui sostanzialmente lo scenario che viene preventivato è uno scenario praticamente identico a quello che poi si è benificato cioè viene preventivato uno scenario di un coronavirus che si sviluppa in Cina e che poi si diffonde nel resto del mondo a cui la Cina risponde attraverso lì vengono chiamate quarantene di massa perché il termine lockdown non esisteva a cui si risponde con la quarantena di massa misure che inizialmente nel resto dell'occidente non vengono adottate ma che poi vengono adottate anche nel resto dell'occidente con il risultato sostanzialmente di un approfondimento del controllo governativo in gran parte della società del mondo in particolare nelle società occidentali cioè si descrive uno scenario che per certi versi è molto molto simile a quello che poi è avvenuto per cui insomma questo non vuol dire che poi cioè secondo me questo non vuol dire che necessariamente tutto è stato pianificato che il virus è stato fatto per poi essere diffuso cioè sicuramente punta nella reazione del fatto che c'era un complesso che era pronto a reagire a una pandemia che poteva benissimo anche come dire che può anche essere emersa per via per via naturali ma era pronta a reagire a una pandemia in un certo modo cioè come dire quel complesso era pronto era già evidente nel momento in cui come dire Gates già lo sapeva come bisognava rispondere nella sua testa a una pandemia e visto che loro da tempo ci ricevono è solo questione di tempo prima che arriva The Next Big One alla prossima grande pandemia visto che appunto le pandemie tendenzialmente arrivano ogni tot decenni ecco secondo me non bisogna neanche portare le teorie all'estremo secondo me è un dato di fatto che c'era un complesso pronto a rispondere alle pandemie in un certo modo e la direzione era quella lì diciamo di un'ulteriore stretta sicuritaria di un'ulteriore stretta autoritaria che poi è esattamente quello che abbiamo visto insomma tra l'altro questo è un po' hai citato prima no Micheline l'idea di shock economy che è stata citata prima era questa cioè le dice è un libro che in maniera particolare sulla gestione dell'ulteriore non Catrina non so se ricordare negli Stati Uniti in cui la questione è ovvio che non è che c'era una macchina che ha prodotto un organo però nel momento in cui l'ulteriore è arrivato è stato fatto in modo questa secondo me è la cosa che tutti noi pensiamo ma non possiamo dire in certi contesti è stato fatto in modo che producesse la maggiore quantità di danni possibili lì lo scopo era la privatizzazione della sicurezza nazionale cioè la gestione di Catrina è stata la prima occasione in cui i contrattori privati hanno gestito la sicurezza pubblica negli Stati Uniti per noi non significa niente ma è un passaggio epocale nella gestione della gestione di uno Stato solo un minuto per rispondere su quella cosa allora io una ricerca la sto iniziando ho un data scientist che fa un dottorato da noi e una cosa simile a quella che tu dicevi bisogna fare la stiamo cominciando a pianificare cioè l'idea è andare a pescare gli account che hanno fatto una super disinformazione allarmistica dall'inizio faremo un po' di analisi di network per vedere chi è in relazione con chi è una ricerca piccola non abbiamo molti soldi però insomma diciamo che da qui a fine anno qualcosa speriamo di far venire fuori hai visto perché sono d'accordo tra l'altro a proposito di costruzione narrativa è stata una cosa simile i video i video dei medici cinesi che cambiavano colore della pelle a un certo punto quella era fantastica è strepitosa c'era uno che diventava marelle diventavano marelle no e c'era un altro ma guarda un'altra cosa interessante in quel senso sarà anche la costruzione del racconto del paziente zero che doveva per forza stare in Lombardia che non è vero di niente perché in realtà erano stati tracciati in Francia in Spagna in Germania almeno in altri tre paesi europei senza contare il fatto che i primi casi di covid i primi casi di SARS-CoV-2 positivi in Italia erano stati a dicembre una coppia di turisti cinesi in un albergo dietro a casa mia tra l'altro quindi lì sono arrivati li hanno murati vivi dentro una cantina dello Spagna e non l'hanno fatta però per dire anche quello fa parte della costruzione dell'eccezionalità a Lombardia il fatto che il paziente zero dovesse per forza stare solo brevemente sulla questione degli account c'è stato in America uno studio è stato fatto da cui è emerso che tantissimi account di medici che sostanzialmente avallavano la narrazione pro lockdown pro accenazione di massa sono poi risultati di essere account finti sì sì questo ce l'ho anch'io quindi che confermo il fatto non è che se sono creati da soli ok è un burlone qualcuno sta cosa va a fare scusate se vuoi dire qualcosa no lasciamole le due se vogliamo fare un giro di due o tre domande se ci sono così di breve sono già oltre le due ore mi spiace per aprire un po' così la discussione però se qualcuno vuole intervenire vuole delle domande da fare posso intervenire bene allora innanzitutto vi ringrazio perché questo per me è un po' il muore di ossigeno nel senso dove si può discutere parlare riflettere anche a posteriori di cose accadute e dicevo come dicevo giustamente scusami Alessandro è un po' perché in effetti tendenzialmente è una cosa che ci ha fatto stare male e cerchiamo subito di rimuoverla e di metterla dietro è umano normale però è anche molto importante invece ricordarlo perché sennò veniamo poi a ripetere sempre gli stessi errori la cosa che più mi spaventa per il futuro in realtà sono si parla tanto di spazi di stessa come ho già parlato diverse volte mi sento un po' di spazi di dialoghi di confronto perché poi è sempre più difficile io mi metto conto anche con persone amici parenti c'è sempre più l'idea che ci sono fazioni contrapposte giusto o sbagliato bianco nero bene male non si riesce a confrontarsi e negli ambienti probabilmente accademici è ancora più difficile quindi la mia domanda è come vedete questi spazi di confronto per il futuro perché io li vedo sempre più restretti più compromessi la gente fa fatica e non ha voglia di confrontarsi perché perché ha paura perché è faticoso perché ti esponi ti esponi a un giudizio e adesso una volta era un giudizio vabbè finisce lì in qualche modo ma pensiamo diversamente io non comincio a te non comincio ma è poco male adesso vieni etichettato marchiato vieni ah no tu sei no paz no paz no questo no l'altro o pro o contro cioè non c'è non c'è più la zona che vi già e quindi mi chiamiamo male come vedete questi spazi di dialogo per il futuro di confronto male scusate vogliamo vincenza come vedere qualcosa la domanda è questa visto che andrò da massimi diversi però voi grazie perché tante cose così intensivamente pensavo però non avevo tutti questi dati nel tempo nella possibilità di andare proprio a conoscere come dire non solo i dati ma anche le azioni dei vari attori che sono anche tanti però la domanda cerchiamo di fare una domanda sennò un nuovo intervento questa non converebbe andare a studiarsi a massimi livelli questo anarcho capitalismo che porta alla formazione di uno stato parallelo cioè un governo parallelo cioè formalmente esistono dei governi ma se le decisioni non vengono più prese lì si crea una specie di governo parallelo che prende veramente certo le decisioni non vengono più prese all'interno dei governi vengono prese all'esterno da una serie di organismi che stanno fuori dai governi stanno fuori dalle democrazie io ma non penso io cioè anarcho capitalismo è il tipo di processo che ha portato alla formazione di persone particolarmente potenti ma in una forma nuova cioè una rivoluzione se può no? c'hanno modere perché c'hanno soldi tutto questo non è un approfondimento perché la nostra Costituzione è strutturata per affrontare e reagire a un colpo di Stato ma quello che c'è stato che lo conosciamo quello del vent'anni ma non è molto attrezzata ad reagire a un colpo di Stato economico e infatti tutta la vostra descrizione diciamo approfondisce il collaboro la mancanza di meccanismi di reazione quindi il colpo di Stato economico avviene come si riporta la democrazia domandina domandina era meglio l'intervento così senza domande vorrei rischiare direi rischio che forse dovrebbe scomporre dieci libri e poi dovrebbe scrivere dieci libri lo so però come dire la riflessione che mi ha avuto è questa prima domanda il libro che lui ha scritto per esempio sul pederico caffè si ritrovano tante di queste questioni in realtà io scrivo solo di questo da anni per cui respingo l'accusa simpaticamente nel senso che non analizzo altro da anni quindi insomma il che non vuol dire che sia arrivata una risposta da domanda ovviamente ma non so se lo chiamerei anarcho-capitalismo ma ma senza entrare adesso in questioni semantiche perché comunque questo è un capitalismo dove lo Stato c'è e da centrale semplicemente non è uno Stato democratico uno Stato che diventa braccio armato di potenze private anche esterne allo Stato insomma come abbiamo visto lo Stato c'è come anche troppo abbiamo visto il volto più terrificante del potere statale in questi anni insomma lo dico da socialista da sempre favotore dell'intervento pubblico ovviamente non ho risposto alla tua domanda sicuramente intanto analizzare questi processi per cui intanto renderci conto di dove servono analisi empiriche scientifiche sul potere oggi dobbiamo capire un po' lo facciamo nel libro cerchiamo anche di dare nomi e cognomi anche a cose perché altrimenti uno rimane sempre analisi astratte cioè qui ci sono soggetti nomi e cognomi che si incontrano si vedono decidono si coordinano sono fatti cioè e quindi bisogna capire innanzitutto appunto chi è che comanda oggi sostanzialmente e quindi questo è sicuramente un tema che in me deve essere analizzato in me era ancora più approfondito di come facciamo in parte noi nel libro ma è un tema assolutamente fondamentale insomma poi sul fatto che la democrazia ormai sia stata completamente svuotata di qualunque senso insomma questo mi sembra evidente sulla questione della polarizzazione della società è fondamentale cioè uno dei grandi problemi di oggi secondo me uno dei tanti motivi per cui come dire la sinistra secondo me a un certo punto perché la sinistra ha adottato le posizioni che ha adottato nel corso della pandemia è il fatto che inizialmente chi è che ha espresso scetticismo nei confronti dei lockdown Trump Johnson Bolsonaro cioè 90% delle persone di sinistra hanno spento il cervello a quel punto perché hanno detto cioè se queste persone qua sono critiche nei confronti dei lockdown allora io da persone di sinistra devo per forza pensare in maniera opposta a loro e quindi non posso che pensare che i lockdown sono una cosa buona e non l'hanno più riacceso questo è il problema però appunto riemerge il tema della polarizzazione quindi come dire tu definisci le politiche in antitesi alle politiche di quello che considera essere il tuo nemico quindi nessun lì non si sono più preoccupati di vedere se magari anche Trump con tutti i suoi difetti forse come dire andiamo a vedere se quello che dice sulla real Trump a un certo punto ha criticato il tasso di mortalità del 3,4% del propagandato dell'organizzazione mondiale della sanità e lì come dire Trump non è che sono un grande amante di Trump ma ha detto il vero cioè ha detto in base a come dire i miei ho dei medici dei licenziati che mi consigliano e mi hanno detto che questo dato è assolutamente al di fuori di qualunque crisma però è stato attaccato dalla stampa quindi questo tema della polarizzazione ulteriormente poi amplificato dai social media è un problema enorme quindi uno dovrebbe cercare di costruire anche dei ponti non è un caso che noi abbiamo voluto sottolineare anche nel sottotitolo del libro che questa è un'analisi da sinistra perché non c'è un tentativo di dialogare anche con quello che fino a non troppo tempo fa consideravo la mia parte politica poi già mi ero allontanato un po' per le posizioni della sinistra sull'Europa e su altre cose ma diciamo sulla pandemia c'è stato ci siamo proprio salutati quindi è chiaro il dialogo è assolutamente fondamentale questo libro è anche un tentativo diciamo di dialogare con quel mondo lì però è estremamente difficile lo vediamo anche nelle reazioni a quello che sta emergendo come diceva Andrea di fronte a come dire ministri che scherzano sui lockdown cioè tutte cose che ahimè non è che ci fa piacere ma che confermano quasi tutto quello che noi avevamo detto su quello che c'era dietro a queste misure appunto non c'è stata quella reazione di shock non c'è stata perché ormai c'è quello che c'è un problema di quello che in economia si chiama costi sommersi nel senso se un'azienda investe troppo in un ramo dell'azienda che poi perde soldi però come dire tante aziende chiudono perché invece di chiudere il ramo e rendersi conto che hanno fatto un investimento sbagliato gli imprenditori continuano a tenere in piedi quel ramo perché non vogliono accettare che è stato un investimento sbagliato questo avviene anche a livello come dire di investimento intellettuale quindi è chiaro che qui abbiamo persone che hanno negli ultimi tre anni hanno fatto un investimento intellettuale totale nella loro adesione totale alle politiche pandemiche quindi è ovvio che non possono che cioè ci vuole anche un coraggio una forza che non è da tutti riconoscere anche di aver sbagliato sostanzialmente e quindi anche di fronte all'emergere di evidenze che confermano quello che noi abbiamo detto e che molti si chiudono a riccia semplicemente non ne vogliono sentire parlare ma non induce un cambio di prospettiva proprio perché l'investimento è stato tale che pochi hanno il coraggio di ammettere di aver sbagliato Dico due cose veloci allora non è stato facile non è stato facile anche soprattutto secondo me insomma una persona come me che è comunque all'interno di un mondo scientifico e quindi è in relazione continua per lavoro con colleghi quindi anche la pensano in modo molto diverso da me e ha voluto dire anche rischiare di tagliarsi delle opportunità di collaborazioni e quindi quindi sì io diciamo che non potevo fare altro perché anche di carattere sono cioè non potevo fare altro che dire quello che pensavo però sapevo che rischiavo rischiavo a tanti livelli detto questo io ho sempre cercato di tenere un dialogo anche perché ne avevo la necessità e l'occasione in Torino è stata per me era per me io ho lavorato perché ci fosse un incontro con le figure istituzionali proprio ho lavorato e le ho chiamate personalmente cioè ci ho creduto fino in fondo che potesse essere un incontro vero dove tra l'altro abbiamo dato la maggioranza delle opportunità cioè abbiamo dato tutta la maggior parte degli spazi avevano la stragrande maggioranza degli spazi di intervento i principali momenti di intervento erano i loro gli abbiamo dato la possibilità di poter scegliere chi invitare cioè proprio avevano eppure all'ultimo si sono ritirati ora questa per me è stata una grande sconfitta è un grande dispiacere ma però rivela anche una loro fragilità è in dubbio è in dubbio che non sono nemmeno in queste condizioni in grado di poter reggere un confronto e quindi questo è un'isilità detto questo continua ma manco cinque contro uno esatto nemmeno a quelle condizioni lì ti ritiri cioè poi con motivazioni surreali cioè con motivazioni veramente quindi ecco è stato abbastanza significativo e non anche se come dire questo ha voluto dire rinunciare il patrocino dell'università eccetera quindi avevano avuto rimediare un altro è comunque stato un altro sconfitto evidente insomma ritirarsi in questo modo quindi ecco questo secondo me è significativo ed è significativo ovviamente sta cambiando la narrazione ormai tutta una serie di cose stanno uscendo quindi non è che possono più di tanto evidente che hanno comunque un po' paura di doverla pagare e quindi si stanno un po' detto questo comunque continua a livello di aggressività perché lo vedo anche nel mio lavoro continuano a darmi l'anno vax cioè a livello di direttori scientifici quindi insomma è ovviamente pesante detto questo io comunque sono andata avanti sono andata avanti a livello di pratiche politiche che secondo me è il fatto io lo dico spesso il fatto che dei cittadini si siano messi insieme tra l'altro partendo dai social perché è veramente partito dai social questa cosa qua comunico persone che non si conoscevano inizialmente e hanno fatto accadere delle cose significative per me è un segno che si può far ripartire anche da appunto da quella che chiama a gambe in cama la comunità dei vicini degli amici dei vicini nella società dell'inemicizia e della distanza questo può accadere ed è accaduto e quindi io penso che si debba ripartire da qui è ovvio che è stato come dire è tuttora io ho fatto dei sogni lo ricordo ancora durante la pandemia in cui ero circondata da agenti di destra fascisti ed è vero oggettivamente mi ritrovavo più vicina quindi è inquietante e allo stesso tempo però ma ancora poi ti abitui alla fine si sta bene esattamente si fa c'è da ripensare la politica c'è da ripensare che cosa vuol dire la sinistra e questo quindi è un lavoro grande da fare coraggioso ci vuole coraggio e quindi non accontentarsi di tutta una serie di cavalli battaglia a sinistra sui vaccini a tutti e cose di questo tipo bisogna avere un po' più di coraggio e di fare dei discorsi radicali e quindi ecco io penso che e l'altra cosa è cercare veramente di uscire da quelle polarizzazioni anche io ho cercato di farlo infatti spesso mi sono ritrovata ho litigato con Alessandro l'ultimo ma lo dico perché è importante che anche litighiamo ma abbiamo dei conflitti tra di noi ma anche tra persone che la pensano e uscire da quella cosa lì di essere schiacciati in un angolo in appunto contrapposizioni sterile etichette anzi io lo dico spesso che io sono a favore del vaccino non ho mai stato a favore dell'aspirina del Malox non è che sei contro è la strategia con cui è stata infatti litighiamo spesso il conflitto dobbiamo anche riparlare dell'importanza di confliggere anche tra di noi che non vuol dire contrapposizione o guerra ma vuol dire ricominciare a partire anche da posizioni differenti che devono essere messe lì senza averne paura un'attività perfetta ringrazio non lì non lì non lì non lì allora mi ha confinto scusate per vi lasciarvi andare voglio ringraziare Shirin e la fabbrica dell'animazione per averci ospitato oggi e è stata benissimo